alura non sento nulla, non sento il volume del gioco ora si vediamo se oggi ci devono essere problemi allora la live la vedo, già questo è un grande traguardo user ciao ciao mattia cacchio di cosa non capisco nulla come direbbe un vecchio saggio bella regaz ciao giovanni yuri non ti vedo ti ho visto ecco ti posso fare la tua amicizia? basta che non frego come l'ultima volta sincero te la amicizia e te la mando anche se mi devi rimuovere perché te lo dicono altre persone mi girano un po' le scatole però vabbè ciao gigi help to bear comunque regà manca poco ai 3100 iscritti eh manca veramente poco arriviamoci dai carne di merda allora regà vedete pronto andamela tefra ti schiavo lì di me la mandi così te l'accetto a parte del silenzio qua quindi user ha già troppi amici mi stia ce farà non so cosa dirti io non gioco da mercoledì io dall'ultima live non gioco certo giovanni basta che stai iscritto al canale e hai lasciato like questo è il mio dimmi ma nella richiesta così giochiamo come va la vita da youtuber ahimè non sono ancora un youtuber grande quando e se lo diventerò ti saprò dire oggi rimasti giovanni tutto allora ho una domanda vai dimmi comunque regà Per chi non mi segue su Instagram Vi dico che gli orari delle live sono cambiati Non sono più il venerdì sera, il sabato mattina e il sabato sera Ma gli orari delle live ovviamente ci saranno eccezioni Ma di base gli orari saranno sicuramente sabato sera e domenica E pomeriggio Quindi il venerdì sera non c'è più, almeno che non ci saranno eccezioni E anche il sabato mattina in caso di cambiamenti d'orario Vi farò sapere Sto andando a mangiare una pizza Com'è che ogni volta che sono in live te fra vai a mangiare fuori? Ma ti giuro Assurdo Allora scriviamo ai due rimasti Ah no già uno non c'è oggi Vieni Terun E scriviamo Perché si ragazzi Oggi Terun Allora Ho scritto uno dei due rimasti Perché uno oggi non c'è Ragazzi Quello che non c'è è Marte No Marte mi ha appena risposto Mi ha scritto Sì ci sono Riesco di mangiare Arrivo Mi ha scritto il compare Arrivo E l'altro è compreso nell'uno Cioè Non considerarlo come una persona Cioè Sono la stessa persona Ecco Ma che carne del cavolo Ma Ciao a tutti Basi ho rimasto Super vinci te lo giuro Usa il finisco il game e ti invito Ma il tuo club di Bruno non lo trovo Fra tutto grande I staccato trattori Cerchi C'è lo stemma rosso con la corona Ma Easy Una domanda importante Cosa Cioè Se verrai bannato pure Nobu Dipende da te A breve Probabilmente No Cesare era Punto esclamativo Brawl Non Brawl Stars Punto esclamativo Ma vabbè Io sci per Non parlare di Toglio No 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 Quando dici mod? Boh Settimana prossima User Se sei venuto qua per farmi Per portarmi Anche i tuoi amici del cavolo Che mi stanno già sulle balle Non Molla già Te lo dico Non c'ho voglia Io di arrabbiarmi C'ho già i cavoli miei Sincero Te lo dico Proprio Di farmi Tutta la tua gang lì Che rompevano le balle Lascia stare Ciao Oggi raga Mi inviti ragazzi Guarda che peggio di Rondo nel Prime Che salutava il Night Bottendo a me Non sei online comunque Sei veramente un tarone Cattissima torrone Non sei online Comunque posso far torneo Sì certo Tu mica Ti ho bannato Puoi fare quello che vuoi Ti è sposto dal club di Brawl Perché rompi le balle Non ascolti Ci mancherebbe altro Poi appena ti vanno pure qua Vabbè Arriverà il momento Ragazzi però Siamo moriti tutti Vabbè Ecco è rimasto Dai Marte muovi Ti entra E ti invito Comunque quando posso entrare nel club di Brawl Stars Ma guarda anche stasera Però facciamo che magari alla prossima volta che Non rispetti le regole del clan Boh Ti butto fuori da lì e ti banno Anche su YouTube Che ne pensi? Secondo me non è una cattiva idea E che sta sparando No L'arma non la rubi Sincero Chi è che l'ha rubata? Ah tu Ok Penso che l'aveva presa al topar Grazie Yuri E tu Chiami Alle 24 No io mi chiamo NPTale Su Coso Su Bro Ciao Night Eh ragazzi Rondo Prime Ragazzi è tornato Comunque era un bellino nemot Ma te lo dirò anche io Quando ti bannerò Vai tranquillo Cioè nel senso Non Lo penso anche io Cioè Un crab Vediamo se Eccolo Il remashto Dei remashti Ragazzi Il capo Dei capi No Quello è super vinci Però Abbiamo il vice capo Direttamente da un altro Pianeta Alle guarda la mia skin L'ho vista Rondo Bo Baggio è una brutta Influenza È una brutta compagnia Baggio allora Non la usi con me Quella skin Sai vero Non mi sentrai più in club Manda la richiesta Ma chi è stata di Della skin Chi Tu hai detto Non la usi come quella skin Si Robo Si è preso la skin Del Bimbo orfano Ah dei super eroi Si chi già sta skin nel 2024 E chi la usa nel 2024 È proprio un rimasto Di quelli che Proprio Pazzeschi Non parlare italiano Lo sappiamo Anche qualcun altro Non parlare italiano E chi Ma quando è E perché È proprio Un ragazzo che inizia con la D Finisce con la E Yuzi Ma Yuzi per caso Raycox Bello il super eroe Io la vorrei Bah super vinci Se è già rimasto così Non c'è bisogno di scalare Ancora la classifica Ma che hai Hai tolto Super vinci dal clan Di Brawl Si perché non mi ascolta Siamo i super pigiamini Tum 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 Pijamask Mamma mia ragazzi Yuzi Me lo metti in time out Per Non lo so 5 minuti più o meno Si Per favore Almeno ripensa a quello che ha scritto E ne Yuzi Mettiamo delle regole salde Da ora in poi Chi scrive cagate Ma Cagate in realtà ci stanno Perché c'è un Jiraga Beh che fai Non te lo tieni Però Ragate proprio Del calibro di Queste Oye ma super vinci che ha fatto Super vinci che ha fatto Continua a spammare emote nel clan Quindi Non si vedevano poi I messaggi Emozionanti miei Tuoi di rox Per esempio E mi sono arrabbiato E anche Le ho detto Se spammio ancora un'emote Ti vanno Ne ha spammato un'altra Le ho detto Dai prova a mettere un'altra La messa Boom Via Ci vuole molto Su fornit Ho acceso due player Con un colpo di cicchino Va bene Non ci importa Marteggi Che valiglia Non so se Come no Speriamo di no Chiudi la porta Plim 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 E che di bene Gili che siamo in live Prima che dice qualcosa Ragazzi Plim plim E nel prime Però Non le usa Perché se no Si non te Econo Lili che siamo in live Prima che dice qualcosa Oh Stiamo in live Ma lo Lui lo sa Lo vede L'altra volta Mi sa che non lo sapeva No L'ho sempre saputo E' sempre stata La nostra decisione Dire quelle cose Eccolo Plim plim Io invece Su brawl Ho fatto un 360 Con sniper Ho vinto No con Piper Ah con Piper Piper Parla bene Super vinci Che dice Io dopo Io dopo Gioco verso le 11 Io alle 11 stacco Perché io Ria Io ho pittato Non ho pittato Io lo vedo Ah no Super vinci Non sei il fresco di zona Bravo Digglielo Plim plim 20 like Domani live Va bene Mi piace Mi puoi invitare Plim plim Non so se vedi Cosa stiamo facendo Stiamo facendo Un game Su fire nates Ragazzi Stasera chi è che Gioca a brawl Che voglio portare Qualche brawl A grado 20 Io Ma io ci sono Sicuro Bravo Anche c'è Anche il brick ox Stasera Come sempre Dalle 2 del mattino In poi Lui però Non si sa Cosa fa prima Lui Dalle 9 e mezza Al turno Tipo il posto fisso Deve andare Timbrare il cartellino E poi Poi Ritornava i due Finisce il turno Super vinci Giocare Va bene tutto Ma io Per vincere i trofei Gioco per vincere i trofei Il mondavo di quartiere Era E' Cesare Sì Un rimasto Che ha scritto Prima Lui adesso Chiamo il tuo fratello Insieme Oggi No Picchi Picchi Megaporco Megacosa 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 E' un insulto Pesantissimo Il mega T max Lui mi inviti Kimpong Ma cosa stai mangiando tu Anche tu Rimasto Sto mangiando Posso mangiare Non mangiare Quattro giorni Cosa mangi Carne Zucchine Citrioni Sono robe lunghe Ragazzi Se non Non viene picchiato Oggi Non viene mai Assurdo Cioè Lo sapete tutti No Che il mondo È piccolo Il karma Gira Il mondo In questo caso Il karma Sarò io E lo inseguirò io A Marte Prima o poi Lo beckerò Cos'era il fatto Che mi ha mandato oggi Con quel vassoio di monnezza Non era un vassoio di monnezza Era un carrello Intanto E lo stavo portando giù Ero giù Nelle cantine Negli scantinati A portare giù la roba Carciofi Galletto No Galletto 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 Pane Hamb Patatine Patatine Tre quarti Non so Cos'è Cotto Poi non si riesce a leggere Scrive in arabo Il tuo capo Sì Veramente Ci ho messo più tempo a tradurre le robe lì scritte che apprendono Io conosco una persona che parla peggio l'italiano E ci serve proprio il traduttore E mi sa che proviamo della stessa persona Mi sa di sì Vabbè Cedrolino Parca miseria Cedrolino Chi è Cedrolino? È un folle Che si chiama supporto Cedrolino Tipo Ma chi è Gigi Forferro? È lui Cedrolino si chiama Avevo iniziato a lavorare Sì ho iniziato a farlo schiavo Ma secondo te anche lui è rimasto No non ha le qualità Cioè ha le qualità ma non ha È troppo poco Secondo me è nelle riserve della squadra Ma che cacchio hanno fatto qua? Guarda la live Che hanno fatto? Una casa Ma Allianza fanno Ragazzuoli Vengo pure io Ma Il 1-0 Lazio Godo Topi infami Ma guarda C'è un guida Un pony prime Bella fratma Se mi sparano Ragazzi fuoco eh Sì ti sparano Ti sparano No non mi sparano Yuri sei un rimasto A lei notizia importante Aspetta A lei notizia importante Ma no mi sparate Terroni A lei notizia importante A lei notizia importante Mocro mano No Ma dai Yuri ma erano brave persone Che terro Ma ragazzi Yuri il capo dei Mamma mia Terroni Esatto Un tempo questa parola Non si poteva dire Infatti non si può dire Ci becchiamo oggi Alle 20 circa Sperando che la connessione Da bene Ma sai il capo dei Cioè sai il Il capo dei Gli rimasti lì Il fresco La famiglia Il fresco del far west Hai capito chi? Eh? Cioè Baggio La famiglia è più fresca Capito chi? Comunque oggi Mancini ha spaccato Ma chi? Ah Mancini Ragazzi Alto Bar ha quitato assurdo Lo stavamo curando E quitta Mancini al 42esimo Ma io non ho capito Ma perché Alto Bar sempre fa così Nelle partite A un certo punto Prende quitta Ma questa mi sa anche della lobby eh No No Rimani in lobby Rimani in lobby Poi però si sorprende Ste robe qua mi fanno proprio arrabbiare Ma non tanto perché qui Da chi me ne frega Perché poi si sorprende Del fatto che viene Che Che non lo facciano giocare Oppure che viene bannato addirittura Ma alla fine comunque Mancini Mancini Alla fine della partita Ha preso una bandiera Con Tipo I colori della Lazio E sopra un ratto gigante E ha iniziato a sventolarla Avanti per tutto lo stato Un grande Un grande Un grande Poi ci metto Ma oh Ma mi ascolti un attimo Eh sì Se la famiglia è più fresca Eh sì Eh Oh è tre giorni che le chiedo Se mi salutano Mi fa se Mi risponde Mi date like E mi fa Sì sì Dopo ti saluto Oh E tutte e tre le volte Si dimentica Sto rimasto Non è possibile Oggi pure Ho appena pubblicato un video C'ho il telefono in mano Mi hai risposto subito Ho detto sì Aspetta 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 Scusa se ti interrompo Notizia importante In mokro Cosa vuole ma quello Cosa vuole ma quello Cosa ha fatto Ho rimasto Sai le bancarelle sto qua Guarda Ma dove stiamo Mamma mia Ma può stare le bancarelle Ma riposta tipo delle serie di rimasti Sì si riposta i suoi edit E sotto ha messo una serie con tipo ha ripostato dei play c'è delle persone e sotto c'è scritto Ano Noia Non è caduto Eh ma è perché è mokro o cosa Mokro Cassini Ragazzi c'è scritto proprio Ano Eh perché è l'amico suo Ma quando è che muore sto qua Ma chi è mokro No quello che stai killando Oh infatti Chi è che piange C'è i bambini in cantina No è il mio fratello che sta facendo i suoni strani Ma ragazzi che agustico Ma chi è che mi ha scritto Ah tu Bro Gigi dimmi pure caro mio Ragazzi lasciate un bel like Per supportare il canale Per supportare la fam Ma fra ma dimitiamo anche noi dei rimasti come quello lì La famiglia dei freschi Chi fre Ma facciamo anche noi una roba così Ma sono dei folli Cosa facciamo Fra ma sei Unes Lo segui su Su insta quello lì E' un folle E' un folle Ma è un folle Ma sai che proprio quello lì Super a Jay Secondo me No fidati no Secondo me Jay E' il capo della famiglia E' tipo il nonno della famiglia Improvabile Oggi sono andato da Steph Il barbie No super vinci Non ci puoi andare te da Steph Ci puoi andare solo Jay Ma io ragazzi Non vedo Jay Non vedo Jay In live da Un mese Ma immagina se ci ha abbandonato Piango Immagina se il troll di Perché negli scherzi Si sembra un po' di verità Ma secondo me ci vorrei un nuovo candidato per diventare tipo Jay Raga 2 No Jay Raga 2 È un insulto a tutti Eh dai Come si chiama Il mignolino del piede Del piede sinistro di Jay Potrebbe diventare L'unghia del mignolino del piede sinistro di Jay Eh Ok Così mi piace Oggi Può fare un tilted Alec Il moleggio 89 Come l'hai chiamato No ragazzi Ma chi è Chi è No ragazzi Ma è Jay Raga Yuri non bannarlo Yuri Prima di bannati Assicurare Per quanto l'hai messo Non sono levato il messaggio Ah ok Riscrivi Alec E il mese Per favore Wish La famiglia Madò Se Marte non si smu dentro 4 secondi Lo picchio Ma Jay Che Come va Spero bene Sapisco Vengo da un universo diverso Che rima Mamma mia Facciamo una canzone insieme Jay Diciamo tipo Alebubu Milano Fit Giragab Potrebbe essere tanta roba Se Marte non torna Entro 7 secondi Ragazzi Lo bagniamo A vita Come una condanna Oh eccolo Ho pensato A una nuova No 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 Ascolta Alecremonesi88 89 Ci scrivi in chat Aprendo e Mettendoci un po' più Di pepa La situa Scopriamo che è Jay Mr. Brown Si parla del diavolo Spuntano le cose Si ma infatti ha detto Qualcuno mi ha chiamato Madonna Ma comunque Buu mi lavo Ma che moji ha usato Ma buono lo so Ah comunque ti sto dicendo Ma se tu Adesso ho pensato A una cognone Mentre stavo Prendendo il tortino Con cuore morbido Il cioccolato E il gelato Il cioccolato Ok no tranquillo Dimmi tutto Stavo pensando Se tu unisci Mokro 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 Ti esce Mokro Kago Eh che comunque Una grande unione Mi finisce Sto te Rode tu 31 milioni di iscritti No io Mi piacerebbe Ragazzi abbiamo preso Le bot Non è possibile Si è un bot Rode tu 31 milioni di iscritti Raga Mi piacerebbe Veramente molto Ma Posso darvi del tu Va bene Va bene Va giù Arrivo Raga Un attimo Che vado di là A portare il piatto E mi prendo Del cioccolato Vabbè Mamma Mi sto arrivando Con cuore morbido È troppo buono Sì Lo giuro È quel che ti mando la foto Cioè Tu apri il tortino E dentro C'è tutto il liquido E lo fai Gigi Non so Fai una frase Di senso compiuto Così magari Ti capisco anche io Ma bavo Che ne ha fatto Boh Non lo so Sincero Da quando Oh Le ho detto Che era In modo in prova Boom Veniva sempre Non è più in modo in prova Boom Non viene mai Assurdo Adesso vi invito Vado un attimo A portare il piatto Arrivo Ragazzi Non dice niente male È una busata Vieni qua Oddio Che c'è bobo? Che c'è? Yuri Io vanerei Un attimo Un messaggio Yuri Yuri J Pony Cosa ha scritto? Ho parlato Ho parlato Di bobo E sponato Eh lo so L'ho visto Ma io parlo Di tutti Sponato Comunque hai visto Quello che ha scritto Gigi Laferro Sì ma Non so se è più grave La sua Oppure La risposta Di Giraga Perché dice Gigi Goat C'è bobo Hai visto che Il Pony ti ha invitato Poi Cosa mi ha invitato? Mh Che polle Oh J Novel Pony J Novel Pony Stavo guardando la live A un certo punto Mi vedo J Novel Pony Ti ha invitato No Guarderò Determin Che skin sta usando Guarda Lo so L'ho visto Ma se entra Con quella skin E lo banno a vita Ma invitiamo tutti Facciamo una squad Io direi di fare Un attimo Una squad Facciamo una squad E Yuri Metti salta No ma E si Ma c'è Rondo Ma chi se ne frega No Corea non voglio Vole fare un'altra squadra Ragazzi Basta Io voglio giocare Con Yuri E chi è spello Chi è spello Rondo Rondo Che mi sfida anche lui Vabbè ragazzi Vuole fare la fine Di super vinci Yuri gioca Dopo hai vinto Tutti gli altri Avevo sbagliato Sì anche il super vinci Ho sbagliato A mettere le emoji A caso Quando ho girato A quel tortino Con il marido È troppo buono Ale è il Milano Di zona Ragazzi Chi è C'è io Leggo C'è Marzone Network No ok È un account Creato oggi Sempre Il 2024 Ragazzi Che fantasia Capete Ve lo giuro Ragazzi Siete dei fenomeni Ma che è mod Please Nessuno Ma leggi cosa Mi ha chiesto E leggi cosa Mi ha chiesto E lo maestro Ma Gira Gab Edirici E rimettere Il tuo nome Che Alec Monese Non è che No Marte Ti prego Non cadere In queste Tintazioni Mi schia Io non posso Ma quante volte Il giorno Puoi cambiare Nome su youtube Sono nuovo Non è vero Non sei nuovo Non puoi Avere creato Un account Oggi 6 aprile 2024 È impossibile È impossibile È più probabile Che Che Marte Sotto sotto Sia Jragab Piuttosto che Tu sia Un uomo Veramente Devo parlarti Poi Va bene Ok Accetto No Non mi va Non mi va Porca miseria Eh niente Ragazzi Vai Due oro E due No 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 Pimbong Rimentiti Quell'oro Metti Quell'oro Oh bravo Scuote di peter griffin Ora tiriamo tipo in due città diverse Ma peter suona dal lento guarda la skin di yuri Suona dal lento Adesso alteriamo in due Alteriamo in due posteri Due ore da una parte E due gentleman dall'altra Ma è il mio account Otto anni Me l'ho creato I miei genitori Proprio oggi Adesso E la prima live In cui sei entrata È proprio quella di Ale Esatto E non è tanto quello Ale di Milano di zona Vabbè E come secondo nome Ale il fresco Vabbè Ragazzi Secondo me Tutte coincidenze No Uno senza cappello Uno con Uno ore L'altro classico Ma no È più bello così Piccolo J Non ti preoccupare Sappiamo noi cosa fare Quanto cosa mangia ancora? Cioccolato fondente Stai mangiando un po' troppo Sinceramente Sei zitto Che stai mangiando Cos'è che vuoi? Tu da adesso Fino a stanotte Non smetti più di mangiare Quindi stai zitto Allora I due gentleman Andranno a granchare Ghiacciaio Perché Andiamo Gli altri due Pimpine Yuri Andate dove volete Basta che state lontano da noi No dovete essere Dall'altra parte della mappa Quindi atterrate Buttatevi adesso E atterrate E atterrate qua Mio fratello me l'ha messo Ma perché Cazzo Il fratello si chiama Supervinci Magari Si sono Supervinci Ha tornato Un attimo male Ehm Cosa Eh Quello che hai detto Mio fratello Me l'ha messo Ah Va bene Però tu pure C'è se fece di gira La tua mente è così fusa? Io non ho pensato minimamente a questa cosa Sei così fusa? No ragazzi Bella ragazza Ciao Simon della Stella Come va? Oh Ale comunque è assurdo che Come Ale il Milano di zona è venuto Tipo Vinci e è scomparso Bobo ci dice Ale Dimmi Bobo Sì è assurdo come Ale il Milano di zona Arriva Supervinci e despauna Boh Non è che sono la stessa persona Chi lo sa Cosa importante Della Stella ci deve dare un'informazione importante Giti tutti per favore Silenzio Entra nella Stella Devo dire Che ci dividi Ma poverino Io ho banato super per 5 minuti Perché ha detto di Di sciopare il supereroe Bravo E' fatto bene Si meritava un 5 anni Cioè mi avete bloccato Ma perché ti ho visto Nello stadio del Napoli Di esultare Gira Agape Sei fresco Eh? Non puoi avermi visto E non puoi aver visto Cioè non puoi aver visto neanche Gira Agape Allo stadio del Napoli poi Ma Gira Agape non è napoletano Gira Agape è egiziano Vero? E' un po' che ho perso per cattivo No Allora mi sono Aspetta Mi sono insalato Brawl E questo lo sai Della Stella Vuol dire che tra poco avremo un nuovo membro del team Comunque Gira Agape è egiziano Ho capito che comunque sono due paesi vicini Entrambi stanno in Africa Però Cioè non è che sono Non è proprio così Senti io sono delle giri Io Io saprò dove è il mio paese No? Ma certo ci mancherebbe Ma guarda Bing Plin Plin che è morto Ma che volta Ma perché odiate quella skin Boh perché tipo da bimbo orfano Cioè per usare quella skin nel 2024 Devi essere proprio Un bambino con una Che ha avuto una brutta infanzia Ragazzi Ragazzi Ale parla per esperienza Non è vero Non l'ho mai avuto Io sono turco Ah nel Milano di zona Anzi Super Vinci No Tu hai urlato Gira Agape fresco allo stadio Del Napoli No non è possibile Fake news Non so chi erano Non ero io Ma sono morti entrambi quelli Mamma Sono squilibrate Ma non so squilibrate Non so squilibrate Yuri è forte No 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 Ma poi sai una cosa Io e te fra Eravamo forti Però siamo vecchi ormai Quindi siamo un po' barcollanti Loro tu sono i giovani I giovani Dovrebbero essere forti No ma Yuri è forte Vinpa Longa anche Vinpa Longa di solito Entra in creativa Non lo so No 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 Guarda questo so già chi è Dottor Bavaro Buonasera ci dice No non è il dottor Bavaro Chi sarà mai questo Se non Alto bar Ma l'avete bannato Mi ha rimosso il messaggio Ma è alto bar Ale ma che lo avete bannato Si tolto il messaggio Scusa che sto giocando Ma è quanto ti dite al puli Se no mi lo vanno pure Ale ha il cure Ale ma la smetti di mangiare Mi lascio in pace Ma mi sparano Terroni Dire ad aiutarmi Qualcuno sta giocando Ma tu riesci a vedere quanto aiutavo Sì Però vabbè Comunque questa partita Perché mi metto da soli Non riuscivo mai a prendere Le carte degli altri pasticcini Alla crema Di nocciola Vabbè cambio nome Ma chi era quello Alla fine È un principio di bipolarismo Ragazzi Non è normale Soprattutto se vi mettete nomi Che non dovrebbero essere messi Dico anche per esperienze passate Ma perché tu cos'hai contro il dottor Barbar No Dico anche altre volte Giragab una volta Si era messo un nome Che non ti dico L'ho dovuto bannare Per un po' di giorni E dopo te lo dico Gigi che cosa vuoi Scrivi in italiano Non mi puoi dire Ale 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 Cosa vuoi Dimmi Ma perché mi ha scritto Mi faccio le 2018 Ma chi E cosa Gigi Gigi A parte che sarai tu del 2018 Quindi non puoi Cioè per scrivere una roba del genere Devi essere proprio Vado a mettere il cioccolato Sulla me lo mangio tutto Arriva Ma dove sta Si lo sapevamo Ciao Ho detto raga Se dovete scherzare Fatelo sul vostro accanto Sennò vi Possiamo bannare E se arriva Di nuovo Noi Siamo sempre in dubbio Nel fatto che sia una persona reale O siete voi Esatto Ma tipo oggi Sputafatto Oltre a morire Sputafatto Puoi scappare da questa città No manca solo quelli Io non scappo Vuoi usci l'ascar? Hai giocato a basket Ma Cesare non puoi sapere Certe canzoni Sei un bambino Comunque la cosa dell'acqua è troppo forte La cosa dell'acqua è troppo forte La cosa de? E dell'acqua là La pergamena d'acqua Oe ma ti chiesti di portarmi un tartino Te lo sei preso solo per te Ah certo Si impone il ragazzo Certo Ma è un folle ping pong Ultimamente Negli ultimi tempi È nel prime Numero 7 Quanto ti dò la sedia prendi? Mentalità Rai anche il ragazzo Si impone Si Che cosa mi sono perso? No nulla Cesare Continuiamo a dormire A lei ti lascio un attimo con il malonghi O vado a prendermi il tartino Va bene Bing Bling tieni C'ho una cucina Bravo C'è raga Vedo che sei acculturato Vedo che sei acculturato piccolo J Madonna Yuri non c'era bisogno Oh Plin plin Ma Chi è Andrea Bobo Noveandre Bobo Si caro Non so Che dubbi ti possano Possano mai venire in mente Bobo si chiama E comunque Il grande alto bar Sotto fondo la live Si Che grande ragazzi Alto bar Il grande Oi mutati Oi mutati Vabbè ti voglio bene Alla prossima Ciao Ciao Povero plin ragazzi Povero plin ragazzi Se solo avessi soldi me lo comprerei e lo adotterei Lo terrei con me Mi fa bene Lo vorrei qui con me Poverito Poi lo hai per un po' e cambia idea E lo rivendi No lo terrei qui con me Li stringerei le guance Poi vabbè ovviamente i favori Li chiedo un po' come fai te Però E allora E vabbè Facciamo un contrabbando Allora facciamo bomb No vi dico le opzioni In chat scrivete Bomb Wars Bomb Wars Ti prego No no ti prego No niente bomb Bomb Wars Impostor gun game Ma hanno rimosso qualche mappa comunque Ne ho di meno Vabbè Bladebear Impostor gun game Ve lo ho già detto Non lo so Ma non ho rimosso C'è mai cazzo No no Ce l'ho ancora io Giamaica Piccolo plin Se vuoi dopo la facciamo Non pallisce mai Vabbè ragazzi avete capito Dai bomb Impostor gun game Oppure Boh Squid game O quelle solite Dai su Decidete Ma non ci voglio Alle cremoni Svi e bomboclato Depito pure Fister via No no Non puoi Cioè Vabbè ragazzi Chi potrà mai averlo scritto Se non lui Il piccolo game Ma lo che mi piace Non ho capito Eh raga Non puoi avercelo pure tu il delay Dai Eri la mia unica salvezza Senza delay E niente Domani devo giocare con l'Empoli Prondo Ambientale Capo della Toscana Mi sono andato a tagliare i capelli Da chi da Steph Il barbiere E dovevo uscire tra la parrucchiera femmina e il barbiere maschio Io ho scelto il bomber E' normale Io poi comprerei Marte Per poi rivenderlo Ma cesare Boh Non fai ridere Bro 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 Cosa c'è Imposter Imposter Ragazzi ha vinto Imposter Assoluto come L'unico a cui piace Bombers Sia Yuri Vorrei dire Arrodi il barbo Ma è una bella mappa Piange perché Perchè perde sempre Allora Vi dico Aspetta però In sta mappa dobbiamo arrivare a 100 kill Va bene Ti dico che una volta Geragab era Primo C'eravamo tutti C'era Geragab a 100 kill Era nel prime più totale In quel giorno Era Un mostro del male Tra poco arriva della stella ragazzi Quindi fatele kill subito Perchè poi arriva della stella Non mi fa fare neanche una kill Quindi Vedete di far tutto subito Che poi arriva lui Un giorno ti invito a casa E faccio fare il mio mare Di tortino con premorgo Va bene Non penso sarà possibile Però va bene Si Vengo io Io vado a giocare Con gli accenni Basta Cesare devi smetterla Sei un bambino Puzzi ancora di latte Smettila di dire certe cose Con l'accendino Poi ti bruci Basta Basta GG cos'è che vuoi Oh sta spammando tre messaggi Allora IG Io Bro Tre messaggi Sto scrivendo Che poi IG intende io Non sa scrivere però Un pazzo Un pazzo No Fra matica Mi sono Potrebbe rientrare Nella top 3 rimasti Secondo me Potrebbe diventare Il nuovo Bomber No ma Marte Plin Vi prego La skin Cambiatela No ragazzi Che rimasti Più che altro Li faccio fare Killer No alleanza Della stella Un po' confusa Harry Kane No Enrico Cane Sì Vabbè Jay Ragab Cresciuto per sbaglio Anzi Nato per sbaglio Jay Ragab Cresciuto per sbaglio Cresciuto per sbaglio Domani non ci sarò Vabbè Ma 9 del pony Ma non faccio mai live Poi quando le faccio Non ci sei Cioè Io non lo so Posso essere Real Madrid Sì Ragazzi Mi sto ancora entrando Anch'io Smettilo di mangiare Però Io? Eh no Io Ma il pony Ha un bel po' Di delay Adesso ha capito Che è impostor Gangame Ho sentito In bombos Avevo sentito Sì No Sì Avevo questo In bombos Aveva vinto Che peccato Vuolei far bombos? Sì sì È più bello No Fra 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 Apri whatsapp Ti prego Che c'era Guarda Madonna Madonna Basta La mia vita è conclusa Sono troppo felice Cioè basta Sono soddisfatto Posso Posso schiatta qua Guarda 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 Apri Che dice Grazie Fra Chi l'amico di Jay No raga So che parliamo di freschi Quindi pensi te Ma non intendevamo te Con il fresco Ma tu hai mai sentito Ma tu hai mai sentito Un barbiere Che si chiama Steph Io mai Fingero Vabbè Ecco guarda Anche Jay Ci scrive Grazie Fra Steph il barbiere Secondo me Quando finisce Dice Prego Fra E Jay Raga Fa Grazie Steph Per questo Questa Acconciatura Adesso vado Con le 08 Niente Più pong Vado con le 08 Invece Wesh Mompotò Wesh Lasker Mai giocato a basket Verro anche Aia Terum Che è Ma che sfina hai Mamma mia Assurdo Che tu Hai skin Che boh Neanche gli sviluppatori Del gioco Ce l'hanno Ma è bellissimo Ma fa schifo Ma mi piace Giragab non ce l'ha Quindi Li fa schifo Di conseguenza Fa schifo a tutti Io non Io non pago cash Ma pago Vimmi da canina Io non pago affitto Io non pago affitto Mi è cazzato il telefono Ma ragazzi Yuribo ha avuto Un piccolo Mancamento È fera Da mezz'ora Non scrive Non comunica Comunque A 100 kill Ci arriviamo Sai quando Dopodomani Puoi fare Bombworth Allora 50 kill Facciamo Il primo che arriva A 50 Decide La mappa Vedo che Marte è ben È ben È ben messo Ma io non lo so Tu sei sempre Sarei sempre Sotto di me Che folle Ragazzi Marte Come si dice L'abusatore Sì Tu abusi Un abusatore Ma perché non mi dico Se non vi ho l'altro A casa mia si dice Stu Come si dice Non ho capito Abusatore Perché No no Ok No ma C'era un attimo Di delay Allora Ma c'era il tool Delay Oppure non ho capito No no C'era il tool delay O c'era il delay Nella connessione Del volume Perché Io stavo sentendo una cosa Per fortuna Magari era solo Il mio presentimento Il mio Ma alla fine C'erro lì No lo inviti Non ho capito C'erro lì Allora Fammi una frase Di senso compiuto In italiano E io ti rispondo Molto volentieri Però devi Ma perché C'erro bar che ha 25 miliardi di vita Io ho deciso La vita dell'altro Perché Il boss Mi ha appena Spaccato il crane Io scapo a basket Io scapo a basket Ma Ragazzi c'è questo Chi è Chi è sto bidone Bobo Ma sono ultimo Cioè sono sopra solo a Yuri Che in sta mappa è un bot A me non fa cambiare Ah non mi cambiare Ma mi Quanto do Sì fai qualche kill E poi tracando È un bug Ecco l'hai cambiato Scusa Ma io sono fk Yuri non so cosa stai aspettando a giocare Sincero Puoi aspettare quando Lui sta Lui deve controllare La chat Sta bene Beh ho capito Potrebbe fare Tutte e due le cose Non ci vuole E non le ho Ma ci mancherebbe Però Killare alto bar Non penso che ci voglia molto Per un Basket Ma hai giocato un basket Capito No non ho capito Gigi Non ho capito Se non scrivi in italiano Non ho capito Non capisco io Non si può capire Non capire Non capire italiano Io non capire bene Non ho foto Non ho foto Non ho camera Non ho camera Non ho camera Ma fra C'è C'è Dove Dove vado io A farlo stare C'è sto qua A parte che C'è Vabbè C'è sto qua Non so Di dov'è Ma non capisci l'italiano C'è capisce solo ciao E tipo Gli ho passato Una padella Che era bollente E gli ho detto Va che è calda Quello non ha capito Mia madonna L'ha presa con due mani Tranquillo Si è bruciato Vabbè Cavoli suoi Nel senso Non capisce Ma perché Alcremoneo 89 Ha scritto Rosario Vado da rosario No Non c'è andare No Il pony Mamma mia Lascar Mai giocato a basket Per caso Chi Ma chi è il primo Bobo Ragazzi Io sono sotto Prima Ma non è possibile Ma che Bobo Vuole fare Bone Wars Quindi non ti conviene Farlo vincere Ma vedi i miei messaggi No Gigi Se scrivi tipo 40 bestemmi di vilano Stesso messaggio Mi sa che Te lo cancelli In automatico Cioè Boh Però ragazzi Avete una mentalità Un po' Da bambini Cioè Non è che se vedete Uno che ha 30 E non avete voglia di giocare Allora Dite Vabbè Lo lascio vincere Così finiamo sta mappa Cioè Non va bene Ragazzi Non va bene Prenderò provvedimento E poi magari mette un'altra mappa Che non vi piace Sì esatto Poi magari piangete Iniziate a quittare Iniziate a quittare Come ha già fatto qualcuno O come farà qualcuno Strano che ancora Alto Barro Non ha quittato Di solito Prendiamo una mappa Dove Prende un attimo Di botte Inizia a quittare Non ha ancora quittato Assurdo Tra alcune squadre Quattro del Royale Che fenomeno Però è più fenomeno Il suo amichetto User Che prende Saluta Dopo sette mesi Torna Però vuole far venire Anche i suoi amici Che un anno fa Mi insultavano Banno il suo amico Perché Boh Bestembianciata a caso E se ne va pure lui Despauna per altri sette mesi Ma ragazzi Ma uno che Non Bravo Mi è venuta questa Mi è venuta la mentalità Di BingBallon Bella mentalità BingBling Oh Non vedo niente BingBallon Mai giocato a basket Un po' anche Mi ha Picchiato Sempre stato abusato Oh Oh Sei diventato Cosa ho detto Non lo so Ma quello non è che non A parte che non parla Però Non capisce Ma BingBallon Capisce Basta Non parla Ma lui non capisce Ma ragazzi Mi dissocio E mi distacco Da tutte queste cose Mi distacco Da queste affermazioni Prendetevela con lui O poi con Giragab Ma perché becco Pimpongo ogni volta Che spawno Ma io non lo so Oh ma c'è sto qui Con i bombardari J Sarà J Per forza No Secondo me è C'è Gamer Di No Giocherino Ma Rocks dov'è Non è ancora arrivato Quel fenomeno No Vabbè ma stasera È sabato sera Le Rocks Tgcom 104 Deve arrivare Ma secondo te Farà l'edizione straordinaria Oppure Una notizia shock Deve arrivare Per forza Da una settimana Che non ce ne lancia una Deve arrivare Qualche Mi spazza Ma comunque Il Rondo Sta ancora usando Una spinta Scappato di casa Che caco Aranza Gli mancano 10 kill A coso A Bobbone Ma te la stella Mi sta prendendo a botte Tutti prendono a botte Non so come Che c'era Come stai Terun Ciao Ale Come stai Ciao Palmis Sto male Non mi è arrivata La notifica Per di Ingrindina Se attivi la campanella Forse è per io Ma guarda che alcune volte Anche se l'attivi Non ti arrivo Stato io ho attivato La campanella Cosa ha detto Quel folle Mi piace stare Un po' Ma per cazzo Ho detto Io non ho attivato La campanella No io ho attivato La campanella Ma non è niente Ah ok Cioè ragazzi Non è arrivata La notifica Stasera E non mi avete detto Nulla Ma che c'è Freda Ma che Ma no Palmis Stasera Giochiamo a Brawler Mi aiuti a portare Qualche Brawler Grage 20 Stanotte Però Non stasera Io gioco Qua la notte Devo andare a letto Buon per te Io non posso Tare sveglio mai Ma a me ti devi chiedere A chi Ti devi chiedere No non me lo dire Al tuo bar Al tuo bar Guarda che va a letto Presto Alla routine Alle 7 del mattino Deve fare No domani Non deve Al tuo bar Vai in chiesa Ma è normale Che c'è ancora Il dita Plano Delle classificate Non me l'hanno Non me l'hanno Yei Ho fatto 100 Vabbè Scrivi in italiano Che ti aiuto Comunque Boh Non ho capito Frano Sincero Scusa No Cosa al tuo bar Cioè Non ci sei Stasera a giocare Ragazzi Allora Io vi faccio entrare tutti No non mi piace Al tuo bar No vabbè Dai ci sta Cioè dovete entrare tutti Nel clan di Brawl Dovete fare Il mega salvadanaio Però Per giocare con me Riga Dovete essere anche Un pizzico bravi Perché io non voglio Perdere le coppe Sincero Cioè c'è tipo Super Vinge Che è Sincero Se mozzi le mani a qualcuno È più forte E Anche al tuo bar Li parte quando gioca bene A volte gioca Con Boh Rondo Non ci gioco con lui Da 7 mesi Pimpong Boh Veramente Sono scappato di casa Fale pro Cos'è che vuole Pimpin Non lo so È uno scappato di casa No Non so Pimpin Pimpin Non sai giocare La verità Non sai giocare Se non quando ti cariamo io e tuo fratello O ti cariamo O no Sì Nei sui server da solo Molto meglio di la maggior parte di quelli nel team No quello certo Ci mancherebbe Anche perché il livello del team è Gragab E alto bar super vinci Quindi non è che Però Con Ciro non ho mai giocato quel folle Non l'ho mai visto neanche online Sempre quello però Il più forte secondo me A parte me È Palmis Cioè Palmis ne sa Mi ha aiutato a portare Tre beroli al grado 20 Puoi giocare come No è arrivato a 50 Chi è arrivato a 50 Bobo Torniamo in lobby Torniamo in lobby Che fortuna Io ero 49 Però io ero 49 Pimpin Che qual è una mappa che non vuoi assolutamente fare Dimmi due mappe che non vuoi assolutamente fare Perché? Eh dimmi Quali sono due mappe che assolutamente non vuoi fare? Che mappe ci stanno? Quelle sono Non mi ricordo No devi decidere te Non ho acquisto Allora Ho iniziato una partita con Melody Ma che acustico? Mi deve rispondere la domanda Sto qua non ha capito Allora Non voglio fare Oh tra berol stars e blade ball Bomb Wars Jamaica Edit Octo game Versus runner Pro mille Poi? Metti Oh alle metti per favore Quella La Potresti mettere La tipo La box fight Quella con i minigame Bellissima Siamo anche tanti No Non me la sento Ne faccio altre ma non quella Allora Poi che devi decidere a Bobo Bobo decidi dai Scegli tu Tra quelle che facciamo solite Bobo puoi mettere Allora Bobo tra quelle che vedi a schermo Tra quelle che vedi a schermo Puoi scegliere Quella che vuoi Bobo metti la minigame box fight Box fight minigame Puoi scegliere volendo anche Desert Domination Una mappa golosa Puoi scegliere più mille Bobo metti Squad Là Cioè box fight Pi Pi Nuke town comunque l'hanno sistemata Nuke town gangaming Non è più in prima persona Quindi se volete No Bobo Gun game non voglio fare Pro mille gun game non voglio fare Sai che Pro un po' la faremo Pro mille vero? Vabbè Bobo Vai decidi Vai No Poi Eh Bobo ti muove però eh Se no passeremo Puoi anche decidere il torneo Puoi anche decidere il torneo Ah ovvio anche il torneo C'è No ragazzi qualcuno può mutare palmis Mutalo tu Palmis è un rimasto Non lo so GF Ale parli E un attimo ci metterà un po' costica Eccomi ero a mangiare Oh ragazzi Discopri plus è tornato Ale vuoi fare edit Soli e te Marte versus tutti Vai per me va bene Ma cos'è edit? Questa Va bene No dai no Non decidi tu Non decidi neanche Marte Il primo che arriva Oh regale Il primo che arriva Tre round vinti Deciderà la modalità Tre round sono tanti E considerando che Siamo in tanti Sono in dolce attesa Un buon recupero Super vinci Non so cosa dire Che scritto? Che scritto? Super vinci Sono in dolce attesa Vabbè ragazzi Nooo Giusto di popular Ma ragazzi Non c'è più una skin Ehi Ah no Eccolo Che secchiamenti Vale Che scritto No metto questo Ale vuoi mettere Vuoi mettere Gilberto Un'altra volta Non me la sento Ti prego Mi inviti Super vinci Perché non sarai online Oh Invece online ragazzi È nel prime super vince Marte se non metti 7 secondi Veramente Fai la fine Guarda DJ ragazzi Chi si mangia tutto Oh oh È buono È fatto tipo Musso Vai Mangia Mi rispondi Cos'è che c'è Se vinco posso partire Sì Puoi scelgere le modalità Quelle solite Dopo ti faccio vedere La fine di mangiare Lo metti nel freezer No 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 Regà non team Tutti contro tutti Poi se si formano Delle alleanze Vabbè È già sciolto Vai No no È ancora un gelato Ma guarda questi Che parlano di gelati sciolti Io non lo so Che è rimasti Vai Ora Lo porto dopo No no Adesso Marte Ti prego Marte ti prego Con la mia schiena Ryan No Ma ragazzi È più brutto Dell'altra Dai noi tre No No teaming No teaming C'era Ti cambii nome Per favore Chi sono Il lobby Ma perché Noto in marocco Nel blocco A 18 Iuri fai un buco Sì Ale Eh Però io non sono Non ho neanche iniziato Avete sentito Eh siamo Siamo in tre Siamo in tre No ma infatti Regà lanciatevi giù Dai Via Ciao come stai Ciao Nicolò Male te Una sera Sono in ritardo Di un'ora Tranquillissimo Ciro Vale questa Questa Sì dai La regaliamo a Palmis Ma come No no Vabbè Tanto non vince più No non è vero Palmis per vincere Deve arrivare a quattro Questa non vale Tutti gli altri tre Della stella Mi vuole buttare giù Ma non sa che comando io Si è lanciato da solo Ragazzi Un fenomeno No faccio finta di non averlo sentito Ma tu Ma tu devi ringraziare Che tu non l'abbia sentito L'avresti cacciato A Bing Palong Ma dilli che non ha vita lunga Se continua così Vieni qui con me Tu mi vuoi far cadere No Oh facciamo la tattica di Draco Qua in questa mappa Lui fa la breccia Sai cos'è la breccia No Un buco enorme al centro Aiutami Vai facciamo il bordo Così muore Così perde No 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 Perché cadono gli altri almeno Ma gli altri cadono giù E nei piani sotto Non c'è la breccia Ma infatti bisognerebbe Bisognerebbe farla sotto No io non la faccio Infatti io ero nei trattori Avevamo due team qui in questa mappa I trattori e le brecce Le brecce erano poi abusate Facciamo la tattica di trattori La tattica di trattori È buttare giù tutti E rimanere su È così È che è la più vincente Buttiamoli giù Tra i frati farò la breccia Ma tanto non funziona in questa mappa Ma che cos'è che urla Esatto Yuri Anche se adesso siamo tutti distanti Ma abbiamo un legame dentro Vai tranquillo Perché è male Perché vengo sfruttato come uno schiavo Oh Marte stiamo in due Se non lo buttiamo giù Veramente È qualcosa Marte ti prego No ho sbagliato Che stupido Che è che è rimasto Palmis Era Palmis quello Sì Ha vinto Palmis Che non è possibile La breccia è colto Per cui siete morti L'abbiamo fatta io E un altro che ha la segnale Visto Marte Che la breccia funziona Ma siamo morti E loro sono morti I primi anni di noi Perché Vimpongo ha fatto la breccia Ma tutti Ma allora Se voi siete subiti Chi fa breccia Muore in automatico Sì perché al centro Non c'è più spazio Perché al centro Non c'è più spazio Muori di sé Esatto Però Sicuramente Da un po' più di pepe A tutti gli altri Cioè Se noi caniamo Come adesso Moriamo Ma che è animare Non so Animare è Vogo Ma che mi do lei Ma mi fornai con me Piccolo plane Ma regà basta Dove sei Sto dio qua Sto dio qua Come si chiama Questo qua È Zeus Ah Zeus Chi è Zeus Chi è Chi è Eeeh È novel pony Non lo smette Mi butta Basta Sono qui con te Bling Bling Siamo tutti con Bling Monfrero Sono qui Buttiamo giù novel pony Oh Buttato giù Ora il mondo è un posto migliore Ciao Yuri Yuri aspetta Ah mi ha buttato giù della stella No ragazzi Mi ha buttato Mi ha ucciso Mi ha ucciso della stella ragazzi No ragazzi Non è possibile Chi è che rimane Ok io ti puo per Marte Dai Tu vieni a Romics domani Domani c'è a Romics Non credo Essere così babbi Ma io non lo so Pur di te Ma puoi cadere in questo modo Da chi è Che rimane Non mi Allora Se vince Altobar ragazzi Ha vinto Ragazzi No ha vinto Palmis È a 2 È a 2 Vabbè è a 3 Però deve arrivare a 4 Oh tiene manca una Ragazzi Ho detto che non vinceva mai L'hai vinto tutte Pazzesco Sto a 3 Sì ma tu devi arrivare a 4 Palmis Perché la prima C'eravano solo io e te No ho vinto io Non è vero Altobar Non hai vinto i tuoi Ma no è la seconda che vinci Sì che c'erano tutti prima Sì è a 3 adesso Lui deve arrivare a 4 però Ah no è a 3 Meno 1 devi farlo Basta picconarmi Ma siete autisti Ma che è tuo fratello eh No è Neymar No è Nobel Pony No No Neymar è un altro Basta Chi è? Non smettete di spingermi Rialto Tutti me li puntano Basta Basta Sono giù bufrero Sono qui Ma che è baggio quello eh Ma ti salvo io fra Adorno Colpa tua se sono morto Ti ho salvato però almeno Marta per favore Ti sta abusando Scappa Picchia Allora picconare Fai la breccia Che tanto ormai muori Quindi almeno fai la breccia Ecco ragazzi Un fenomeno Non sono stato io Chi è stato non lo so Eh Bobo ti ha spinto No no hanno usato l'impulso Eh Bobo ti ha lanciato l'impulso Ah no ma sai che mi sa che era tuo fratello No non era tuo fratello No io sono tu Ma di lei più un po' di lanciare Di lanciare la radio Non è giusto Puntano tutti noi Puntano tutti Ne è te e bing Che cattivi ho veramente Uccidete palmis ragazzi Che sennò vince Ah ma è già morto Ok a posto Io ti vuoi per il plin plin Ma è già morto plin plin Ma no eccolo Plin plin Distrugge tutti e tutti È morto ragazzi È un fenomeno Comunque prima quando hai giocavo Stamappa Ma guarda che mi sto girando Perché non mi è L'ho visto l'ho visto Fai la foto Fai la foto Eh non me lo fa più aprire Però l'ho visto Mamma mia Che fenomeno Che fenomeno Ma chi è che ha banato il messaggio Vado su Instagram Rondo ha vinto Ha vinto Rondo Le emoji No ma anche le emoji bannate No non sono bannate Come no io non le vedo più Io le vedo Ci sono le emoji Ma non hanno cancellato Il messaggio Lui ha scritto Prima ho mandato le emoji Poi ha mandato un messaggio Che ha scritto Tipo vado su Instagram E qualcuno ha bannato Vado su Instagram Ma non nelle emoji Ma lui è da bannare Proprio completamente lui Proprio No no ma come ti permetti Gerardo Dannato plin plin Mi cerchi di far cadere Ma vai va Tarun Aiutate Vi ho nove il pony Super vinci ragazzi Il duo mate Più rimasto dei rimasti Assurdo Marte vieni giù con me Nella pietra Ed aiutarmi A buttar giù Nove il pony Immagino che sei caduto apposta Vero No te lo giuro Mi sono buttato Ho aperto Mi sono buttato Sì però Basta lanciarti Nella pietra È stato Yuri È stato Yuri mi ha aperto Dai Ti ha aperto In tutti i sensi Però Ahimè Vai che c'è i super vinci Con le c4 Attento Ecco Deveva usarle Quando la cosa è piccola La cosa è piccola E ne è che è rimasto Sono caduto Poi È ancora vivo No palmis è ancora vivo Ragazzi palmis è il primo piano Ancora vivo No Ping pong Butta giù palmis Poi puoi anche morire È dietro di te Oh bravo Ecco È però sul Ma tu sei morto Ale Eh sì È morto in teoria No palmis è morto Oh ping pong E non ti lasciare Ping pong e Simone della stella Sono in vantaggio Ma sai che vince della stella Eh Vincete la stella C'è l'angetto della stella ragazzi Vinceva lui per la vita No ping pong l'ha buttato Ping pong l'ha buttato Eh però avrebbe vinto lui Sa che vince Pline No Eh Sì sì vince Pline Complimenti Pline Per la tua prima vittoria Marti doveva vincere a vincere Però eh Il tuo primo successo Ma la vera io ce l'ho con successo No Ciao Novo il pony Te ne vai Di già Abbiamo iniziato adesso Che ore sono? Le nove È lì di andare a letto adesso Simone della stella Mi spiace per averti tradito Ma altoparli si chiama GX Altoparli? Ma che te frega Ma non ne importa Ma che cacchio me ne frega Pensa a vincere Ma Pensa buttare giù palmis Vero Oh bobo Butta giù tutti Io ho buttato già poco più palmis che aree e boss Eh bravo Butta giù tutti tranne me però Vabbè Tranquillo E' poi è rimasto Hai visto Hai buttato giù palmis Che è quello con la skin ribelle tipo Come schiampo Con i capelli arancioni Ma quale? Quale? Quello che Quello lì con la pelpa? No Una ragazza giù Ah è super vinci Ah e lui mi cercava di buttare Di buttarlo giù L'ho perso Che è rimasto Ha sbattuto la testa Ma Iuri basta Adesso lo butto giù Eh ma meno male Mi continuo a picconare Guarda se è una munnezza Mi ha buttato giù Ma aiutatemi però Io ero lì ad aiutarvi Stavo combattendo contro della stemma No che è stato Che è stato Che è stato l'autistico Che è stato il bambino autistico Ancora Per safe No poi mi dite che non sono autistici Quelli nella mediale Ma ping pong è morto ma guardate Sono morto di cosa? Che sei funzionato su questa roba di ferro? Sono morto Arte mettiti sul coso Sulla pietra veloce No io ero finito Mi sono morto Ale te lo dico io La tattica vincente è saltare qua Perché non si spaccano Ma come può buttare il pelotitore? A trovare guarda Chi ha vinto? Simone della stella No c'è ancora qualcun altro C'è Ale Sono morto non ho vita C'è io sono morto dal della stella Mamma mia Ragazzi No tutti siamo morti comunque da della stella Non è che sono io l'unico strunzo Tutti siamo morti da della stella Che vergogna ragazzi Ergogniamoci ragazzi Siamo tutti dei rimasti Ma perché mi fanno cadere? Sì ragazzi Comunque non è giusto che appunto è solo noi Siamo i più forti Comunque c'è Yuri che cerca di farmi cadere Vale Eh Qualcuno chi è? È Bobo Allora andiamo a picconare ti prego vieni Attento che ce l'hai dita in mano Nonna ragazzi che è rimasto Ecco questo prima l'ho fatto vedere Questo è super vinci Ho portato con me Yuri Bravo ping pong Complimenti Quanto vado Yuri Ho portato la testa identica a quello che ho fatto prima Oh buttiamo giù questo Chi è? È della stella È rondo È rondo È rondo È rondo È rondo Mamma mia ragazzi Com'è che rondo in ogni map è una malattia? Grazie comunque Marte È stato lui Stupido Oh ma sì ma mi devi aiutare Sono contro della stella nella pietra ragazzi Qualcuno mi aiuti Ragazzi ma vogliamo parlare di Bobo e Super Vinci che stanno sotto a ballare Della stella è uno di uno tra Marte e Rodidore Tra butta giù un mondo dai Non posso Non è così facile come la metti te Che è? Chi è sto qui? È Mimari È Bobo Quella è Bobo Uccidilo Uccidilo È Mimari È Mimari È Mimari È Mimari È Mimari Marte hanno vinto tutti tranne noi È comunque assurdo Ma che Palmis ha troppo di lei veramente Dice che lui è a 3 quindi ha vinto Non è vero Palmis La prima non valeva Lo capisci l'italiano? No No purtroppo no 30 anni Nel blocco Dai Marte Tattica di prima Che è stato ragazzi? Però possibilmente buttiamo giù un ruolo Ah niente ragazzi Non possiamo farla tattica di prima Vabbè fra butto giù tutti e poi scendo T'aiuto io Ping pong Mi aiuti al posto di guardarmi No Ale però c'è Non la smettere di puntarmi Io non gioco più Dai però non puoi fare così Gliela dai vinta così Passi dalla parte dei rimasti Guarda stanno Stanno tutti contro di me Stanno Eh ma guarda chi sta contro di te Chi è? Autistici Sì ho capito ma chi è? Siete proprio dei indica Fatti in te Di hotel ragazzi Vabbè facciamo finta che Non ho sentito nulla ragazzi No io spero che Mi sono sicilato Complimenti ping pong Più rimasto Almeno una win Sì è doppiamente rimasto Per aver fatto questa affermazione Non è vero Io sono sopra coiuri della stella ragazzi È impossibile come cosa Pazzesco Parmi sei morto? No parmi sei vivo No parmi sei vivo All'ultimo piano ragazzi No Sul legno non c'è palle Supervici Sta con supervici Io sono sopra con della stella Io sono in legno con della stella E mi sta vincendo O va se calda di vita Ma supervici che ha sicurato scelando? Ma no però guarda che ho vinto Oddio Ale ha vinto Ale hai vinto Gli altri fanno prima a buttarsi Supervici No ma però A lovers Adesso Ale non è vero Ha vinto lui No Infatti stava verso il dubbio Che stava vincendo lui No no Ci 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 No Apple Grazie palmi se nei tre ma la prima non valeva questo vuol dire che tu devi arrivare a quattro per vincere non è complicato da capire parlo la tua stessa lingua l'italiano non credo poi se tu non lo capisci non è un problema mio perché mi sono ritrovato nella pietra che mi ha buttato giù parte perché non ci vuoi perché cosa dovrei fare non so se mi toccate vi entro in casa qualcuno e io invece di vedere trovo dove dove abitate che non ci metto niente ragazzi monnezza che non sia altro c'è uno nel cespuglio iuri aiutami sto rimasto che è il baggio è che pareva che non era baggio è rimasto con lui orrono quelli lì sembra che quella gang palmi sti lanci giù per l'amor del cielo c'è martedì rendi conto che noi siamo io sono morto tu sei giù e della stella sul legno ok non è sulla pietra ok è morto si sta giocando le chiavi di casa ragazzi ma chi sono quelli sopra le c'è ping pong alto bar super vinci ping pong copri tuo fratello piccone a tutti uno dei due di vincere allora per vita vince madonna no ragazzi vince coso ah no vince iuri che è rimasto ping pong c'è sei dovuto piccolare con te ed è morto che è che a zero qua si fa gara chi è a zero eh baggio zero marta zero al tobare a zero super vinci a zero anche tu sei a zero eh no sono a uno io bello mio allora buttiamo giù subito allora l'eberiamo ad essere buttato giù deve essere palmis poi super vinci poi della stella che è troppo forte ok la stella buttato giù poi anche rondo ragazzi che è veramente una malattia in qualsiasi modalità è pazzesca come cosa il palmis scaduto di nuovo è all'ultimo strato ma tu hai potuto ballare mi vuoi aiutare ho buttato giù il bobone bobone mi ha piccolato cinque volte no sono cazzato da super vinci ragazzi ciao ciao oh bobone no ragazzi qualcuno poi mi piccola tutti ma va che è della stella quello è bobone della stella usalo ma non mi devi far ballare è rimastissimo che non sia altro però puntale puntano tutti a me non è così tranquilla bravo vince 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 super vinci si super vinci qui da me a lei ho vinto a lei ho vinto ma non hai vinto sono al primo strato sul concetto di vita senza nessuno ok è al centro possiamo dire che super vinci e rondo sono proprio dei rimasti si a lei buttalo fai la scivolata e buttalo in safe così a meno che ti tutti sono caduto ma lei si è salvato di un centimetro dalla lava sono caduto madonna vabbè ma vinci te si hai vinto si si ha vinto oh non è più a zero ragazzi così non piange dai chi è ultimo allora abbiamo no 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 il bag scritto cosa ale però che fanno tutti alleanza contro di me ma non è vero ale possiamo quitare alto bar ha venuto il primo che arriva a 3 vanno avanti ale però vanno avanti vanno avanti la mia stanzetta in cui spu mi fanno tutto il buco e vabbè fra c'è giusto e veloce non posso romperli anche per sta roba già sono dei rimasti non posso dirli c'è già lì mi lamento per quale faccia di giocare almeno ma tu sei ancora vivo io si non posso cadere ok va bene tranquilla ora cosa stanno facendo vai 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 oh ma lo smetti tu che era cosa qua rondo mi sa no baggio forse vai 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 ragazzi stavo cadendo della stella pazzesco se moriremo noi moriranno tutti bella mentalità Nora Nora di cuore ok hai sceso palmi ragazzi hai sceso palmi da voi oh son morto vabbè fra la vinco io per te era devi buttarti subito per lui per prima devi buttarti subito ok vanno prima sullo strato plin plin ma che è rimasto che è plin ragazzi ma cosa vuoi ma sono rimasto sto bambino sto orfano ma cosa vuole sono sbarcato cos'è che vuole ma sto sbarcato cos'è che vuole madonna oh sto vendiciabatte su tutti i piani mi hai inseguito God è morto no vai a vedere chi vince palmi ragazzi no forse iuri oddio palmi mi sa che ha vinto no bella che ha vinto il palmi si ha vinto palmi si ha vinto palmi no no c'è cosa bobo c'è più vita ah è vero ma bobo aveva qualche vittoria no palmi solo butti giù o hai perso no bobo non aveva una vittoria no ne aveva una bobo aveva una vittoria si si bobo ne ha si una una vabbè ripeterebbe una ok quindi bobo gliene manca una come anche a palmi tutti gli altri due ok alto bar chiedere possiamo acquittare me l'ha scritto mezz'ora fa c'è un po' di delay mi sa anche tu eh perché io non guardo subito comunque baggio e super vinci e alto bar sui vinci a zero eh grazie fra grazie fra grazie fra grazie bello grazie fra grazie per il supporto eh indovina guardalo 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 chi può mai essere secondo te quel chino non ho capito bene ma vuoi dirlo ancora vuoi che ti banno a vita non lo so dimmi no no però c'è non mi puoi dire niente guarda della stella no ok però non devi dirlo per favore grazie abbiamo gente sensibile qui dentro tipo della stella anche allora ho capito il caldo guarda guarda iuri ragazzi guardalo 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 l'ho buttato giù l'ho buttato giù iuri non devi più conare il povero morte ma baggio è caduto da solo vabbè ragazzi marte si è caduta della stella veramente ma c'è guarda che c'è ancora palmis lì eh mi ha buttato giù il rimasto di da stella e vabbè ragazzi ma c'è anche l'auditore qua dietro sono morto di caduta corro veloce numero 7 tu lo sapevo eh fai bene a saperlo iuri è stupido poteva rimanere in bollo tutto il tempo però vabbè complimenti iuri nananana nananana na nanan page la famiglia mont integrate ovviamente feared si è morto totalmente tutto è e è rimasto quassà l'amore bil 구� passes abbiamo tutti più di vita e che mierda onymous Yunes la grinta, numero 30, ah Yunes la grinta, continuiamo la canzone Ma perché sto muro non si spacca? Allora, continui la canzone Aspetta, devo killare della stella, ok? Ci sono Numero 30, Yunes la grinta Ah ah, prendo della stella, ah lo metto, vabbè, basta Hai più vita di tutti, teoricamente hai vinto, poi non lo so Ah ah ah, siamo a due ragazzi, vamo raga, in bocca al lupo, muchas gracias Sei al pari con Palmis e Bobo Ma tu, quindi se vinci tu, decidi tu, vado a fare Se vinco, se vinco, vi dico che scelgo Brumille No Ve lo dico ragazzi, quindi vedete di vincere Prima da killare Ale No, perché io non voglio vincere, voglio che vincete voi, però non vi impegnate Quindi io vi ricatto con questa cosa Bobo è rimasto, ti giuro Gli ho editato propriamente e dopo un po' è andato dritto Che è rimasto Basta ragazzi, ah, in due di secoli mi voglio far cadere Non puoi prendertela, devi smetterla veramente Però prenderò provvedimenti disciplinari Per te e per della stella, che è troppo forte oggi E che buono Ronde un mezzo rimasto ragazzi Ale non ce la faccio più, stanno in due Chi è? Dimmi chi sono, dimmi chi sono Ah, adesso, te lo dico subito Sono Baggio e Super Vig Io dici 2 a 0, assurdo Ale io qui Cioè così, ma che bambino Oh, non mi do più di giocare a sto mappa, schifo Ale Era meglio fare Bobo Tu l'hai voluta scegliere Non è vero, io ho scritto Squid Chi è che ha la scelta? Bobo la scelta Mamma mia ragazzi Chi vince c'è la modalità Basta, è deciso Ping Pong Baggio Bobo Basta Baggio, Bobo O Ping Pong No, non è vero Bobo, Yuri O Ping Pong Chi vince c'è la modalità Guarda Ping Pong come si sa giocare le chiavi di casa Casa che tra l'altro non ha Assurdo Gli hanno fatto la breccia Ha vinto Bobo ragazzi Ed è comunque a 3 quindi ha vinto lui Quindi Bobo scegli di nuovo Bobo però adesso ti do opzioni un po' più ristrette Ti do opzioni anche un po' golose Pro 1000 o Pro 1000? Allora, ti dico Le opzioni sono Allora Bomb Wars Squid Game Sniper vs Runner Deserted Domination Propound Oppure Torneo Scegli Ma qui è rimasto di morte? Dov'è? Sto tornando in log Ah, eccoti Io le opzioni terrodati Bobo se non hai capito Cavoli tuoi ti espello E decido io Se non hai capito No, dai Pro 1000 no Indovina dalla skin Che skin Numero 30 A Yunus Slagherina Non lo so Bobo Parla Scrivi Che modalità vuoi fare Non capire io No, ma sai che mi sa che ho capito Mi sa che vuole fare Deserted Domination Non è possibile? No Ecco, lo sapevo Deserted No, no Ragazzi, io non gioco No, allora facciamo una cosa Bobo mi hai rotto le palle Scegliete tutti voi, ok? In chat A spam decidete Tra Deserted Deserted Bomb Wars Squid Game Pro 1000 Oppure Propound Propound Ah, spam Vai Quindi quello che vedo per più tempo Decido Prop Squid Zone Wars Che non c'entra lezioni Prop 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 Squid 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 Prop Squid Squid Prop Squid Squid Prop 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 Vabbè ragazzi Ha dominato prop Ragazzi Assurdo Pazzesco Mi sa perché Pazzesco Fermi con lo spam Si è spammata ancora Vi entro in casa E attenzione Non è di ragazzo Pro 1000 vuole fare il bobone No 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 Ma infatti ma mi sa che è pro 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 Ma ragazzi ma è pro 1000? Voi? Pro? No perché è scritto tutti pro 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 No alto basso è pro Marte è pro No io ho scritto pro Io ho scritto pro L'ultimo messaggio è pro Ah ho sbagliato Volevo scrivere pro Pro 1000 Stanno scrivendo No proprio Ragazzi rispammate O prop O pro 1000 O squid Prop E non Pro Pro è pro 1000? Pro Scrivete 1000 come volete Pro 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 Proposta Pro 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 Dice che ho inviato troppi messaggi Complimenti Basta ragazzi spammare Fermi Pro Ecco Ha vinto Pro Ragazzi Allora Marte ci imponiamo un attimo Salva il mondo No non è tra le opzioni Mi dispiace dirle Loro Sono rondo Allora ci imponiamo un attimo però Perché io Voglio dire una cosa a Marte Che lui non lo sa Io Propante Ti ricordi quando la facevamo i tempi no? Eh Eh Avevo smesso poi L'abbiamo rifatta tipo verso gennaio Non mi ricordo in una live serale L'avevamo rifatta che mi era venuta voglia C'era Giragab Io ti dico Mi sono messo in un posto che Neanche il creatore di quella mappa Sa dov'è quel posto Oh Giragab è tempo che mi sono nascosto E fa Adesso ti vengo a prendere Oh 5 secondi Mi sono ritrovato Giragab Che mi buttava il fucile alla pompa in testa Quindi Ragazzi La live Tenete la Cioè tenete la live accesa Così ci sono gli spettatori Che sennò poi non entra nessuno Ma girate il telefono Il tab Che cacchio che avete Cioè non guardatela No tenetela anche aperta Però girate il telefono O chiudete quel cacchio che avete Quindi Non guardate Perché Se Sì se Se vi becco Che ci trovate E si capisce Perché Se sono ficcati in un buco Lontano in culo A sta mappa È impossibile che mi trovate Alla prima Il primo colpo Quindi Quindi Che è la live Per voi Che cattiveria Quindi Chi bara Verrà Espulso E bannato Esatto No rosso ci dice ciao Ragazzi assurdo Rosso Rosso e alla foto blu Che folle Mamma mia Dopo arriverà blu E scriverà ciao Con la foto rossa Blu con la foto rossa Che fai? Mamma mia Ma perché bisogna essere così Perché mettete in salta? Ragazzi O giocate O ve ne andate Per la modalità O per sempre? Dipende Dipende Se vi dico Magari Smettetela E continuate Potrei bannarvi per sempre Non so se ti conviene Baggio C'è C'è ancora alto bar In lobby? Ho già spento Ah no è Ora qua Oddio Ma che miracolo calcistico è Ma mettete in salta Perché avete Sapete già che barate O Verrete bannati O Regà O uscite dalla lobby O giocate Esatto Yuri Bravo O uscito O giocate Scegliete Oh oh Sei patulli sotto il mio blocco Ah è che comunque Se non giocate Non giocate neanche dopo Non è che venite qua Quando volete Arrivati Ecco Blu ci scrive Ciao ragazzi Impossibile come cosa Ma che è rosso e blu? Chi sono? Ma che non lo so Ti giuro Non lo so E da un bel po' Che vengono No Sarà qualcuno Con più telefoni E mi raccomando blu Immagini rosso Vedete E ho chiaro Mettete pronto Marte Se ci nascondiamo entrambi Sei già ti porto io in un posto Mi sa che ce l'avamo messo una volta Però non ti chiedessero qui su unare Ma ping pong No ma chi è quello? No No Dai oh Baggio buona Siamo di skin Mamma mia Devi fare il bambino Non ti devi nascondere con la skin Ti devi nascondere con la pistoletta Che la pistoletta? Marte Che c'è Ma Secondo te Ci starà qualche bambino Un po' così Che ci farà Farà la spia Farà l'infame Guarderà la live Ti posso già dire chi? Sì E perché proprio Supervinci? E perché Farvi rondo? E perché proprio Qualunque persona In questa hobby Letteralmente Che sono stato? A parte io e te Ping pong Perché? E a parte Io, te, ping pong e Yuri Siamo gli unici quattro sani Forse è una risposta Perché tutti hanno unità inferiore A cinque anni Ragazzi Chi è che avviate E terminate Così dobbiamo tornare in lobby Che è il bambino Così Agustico Chi è? Itemera Se volete fare i simpatici Potete già abbandonare la lobby Mettete pronto E non avviate Se avviate ragazzi Esco e spengo la live Non ho voglia Sì Cinque giorni che c'ho le balle girate Sincero Di venire qui Sabato sera In live A scartavitrarmi A ciolla Per colpa di qualcuno Sincero Non mi va Quindi Ho fatto i seri Vale ma sai che Una schede di produttore Si chiamava ciolla Saludamela O altrimenti Piglio una pistola Io mi chiamano Aleccio il detective Perché? Perché io so già Chi è che fa il bimbo Sbirulino Sparo tre colpi Uno su Supervinci Non so bene perché Uno su Alto Bar Anche lì Non so bene il perché E un altro Lo sparerei O a della stella A rondo O a rondo Non so bene il motivo Però E ping pong Che ci manda uno sticker Andiamo ad analizzarli insieme Allora Che sticker sarà mai? Che Una matata ragazze Ma lei posso mandare? Mandami quello che vuoi Tranquillo Adesso Ti mando questo Tanto per Poi ti mando questo Ma che schifo Aspetta aspetta Solo io la devo trovare Basta Li guardo dopo Mi sono Iniziata Aspettato Comunque hanno avviato Non so chi Perfetto È possibile che ha avviato Cioè almeno abbiamo Uno di noi quattro Per favore Uno tra me Chi sono questi quattro? Voi due e Yuri Cioè se l'avvia uno di noi quattro Va bene Se l'avviano gli altri No Ah lei posso mandare Non ha terminato Mandare come vuoi però Dai Non ci ho voglia Dopo No ti prego Mamma mia ragazzi Che palle Oh l'ultimo però Non ci ho voglia Di aprire e chiudere le volte Ah questo Che comunque Sai che è realtà È golosissimo questo È un grande sticker Mi piace Ah lei ma siamo venuti Insieme a cercare Esatto Andiamo Alla ricerca di bambini Eh? Alla ricerca di cosa? Di bambini Di demo Alla ricerca di padre di Hagen Qua dentro c'è qualcuno ragazzi E qui dentro una volta c'ero io E mi è venuto un giraga Per appuntarmi il ferro Eccolo E il baggio Posso guardare la live? No Non si può guardare la live E c'è il fatto che tu scrivi sulla live Significa che stai comunque guardando No c'è il fatto che me lo chiedi È un problema Ma blu sei chiaro No blu ha cambiato la foto È totalmente rossa E dice poco è il più forte Almeno prima aveva delle sfumature No secondo me qualcuno di quelli che In chat per forza Non può averla guardata Non ti sto inquadrando Ma che è rimasto Ma che è rimasto Cioè non è Vabbè ragazzi Un fenomeno Un rimasto Che fenomeno Io spero Il king Sì il king del vinto Il king del vinto Madonna Eh ragazzi fatevi sotto Ma qualcuno piacciono le donne eh Sì ma quando cerchi Mi piacciono le donne eh Poi se ti banno Ma è quello che ha fatto Fabri Fibra Sì è Proprio lui Non mai sai scambiare Cioè Niki Savage O Saki per Fabri Fibra No mi piacciono le donne Eh che c'hai Ma non si dico Non credo sia fatto Da Niki Savage Mi piacciono le donne Come no Sì Mi piacciono le bionde Le more Saki Niki Savage Mi sa che non avete capito Ritmo Mi piacciono le bionde Le more Le rose Eh ho capito Ma non mi ricordo di chi è Ma non è sicuramente Niki Savage Non credo No vabbè Quello lo so anche io Mi sa che è di Fabri Fibra No sa che è di Fabri Fibra Di quel peccino Intanto quando cerchi Posso guardare la live Sì Anche se qua ha fatto un fit Veramente con tutto il mondo No Ale è di Fabri Confermo Io e Rosso Noi siamo migliori amici Ma ci sono due blu No ragazzi Le more le bionde Di ogni colore No le brande no Le bionde no Cioè sì ma Preferisco le more Grazie Altro bar Ma che manca Che è che rimane Yuri Ragazzi sfucilate tutte le scatole che vedete Tutto sparata a tutto Un po' lo becchiamo Da cinema Bombardiamo tutto Da cinema Perché l'ha detto Ma allora Ma io non lo so Ho già vinto Non mi trovate Ho già vinto No adesso ti trovo io Non hai capito Io sono Che tipo Sta mappa L'ho creata io Che è rimasto È nei tunnel ragazzi È nei condotti d'aria Sono nel tunnel Vedo le luci Parlo con Jayragab Non credo facesse così Cosa vuoi rimasto C'è il suo permesso che mi spara Zitti fermi Non sparate Non ho sentito il ping ragazzi È pazzesco Veramente Le caglie si è ficcato questo Non è che si è camperato tipo in lobby È rimasto in lobby Per nei lobby No secondo me sul treno Nel capodreno Ah ok L'ho sentito Sono il capodreno Let's go Let's go Sì comunque È di qua dove sono io È di qua dove sono io Non capisco No ma dove sta ping Dove sta ping E io sono dove è ping Cioè Aspetta Dov'è dai È rimasto È qua dentro ragazzi È qui da me È qui da me È qui da me È qui da me L'ha trovato Ora Marte Vieni con me Ragazzi Togliete la live Che se Per qualche motivo Astratto Ci trovate E non è possibile trovarci È impossibile Non ci hanno mai trovato nessuno Mai Non ci ha mai trovato Non ci ha mai trovato nessuno Ora c'è un problema Bing È nella mia stessa stanza E può guardare Dal mio schermo Dai ping Fa il bravo Dai Per favore Non ti ho dotto più Se no Fa il bravo Ho hai capito E lo sta deciso da trovare Beh Togli tra live Marte vieni con me Mi vedi Sono questa No non Togli Togli il trasformo Marte vieni con me No non ti trasformare Aspetta Togli il trasformo Togli il trasformo No però ci seguono No ragazzi Andatemene via Andatemene No 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 Baggio palmi Andatemene Dove sei Marte Però comunque è proprio rimasto Non è possibile Ma se questo Eh sì No sono qua Ti seguo Io so Ti sto seguendo Mi vedi adesso Vattene te Io sono quello che No non tu Vieni con me Fermo eh Mettiti in posizione Trovo i cori con R3 Che ti fermi No non è questo Aspetta Dopo ti faccio vedere Mi piacciono le more Lebbio Vieni con me Ho capito dove Ho capito Ma L'avevamo inventato L'avevamo inventato io Sono scondiglio L'avevamo inventato io Sono scondiglio Ma non ti ricordi Che l'avevo inventato io No io Io l'avevo già fatto una volta Vieni con me Progetti a poi Ti con R3 Eh ti ti con R3 Io l'avevo inventato Sto in questo Nascondiglio Sì ma l'avevo già messo anche io Oh però Bing Sa dove stiamo Ho guardato il mio schermo E sa dove stiamo Bing Sappi che se per caso ci trovi Cioè se ti chillano Non puoi venire da noi E non ti avvicinarne anche Non che vieni qua e gli dici che siamo qui Marte ma perché io so già che qualcuno ci troverà Ale ma puoi guardare lo schermo dritto qua Lo schermo bianco avanti a te Così nessuno sa dove sei Sì però vorrei anche avere un po' più di tranquillità e fiducia nei miei spettatori Non devo essere io a cambiare per loro Dovrebbero essere loro a sistemarsi un po' il cervello Non parlo di tutti Parlo di chi lo fa Di chi fa il bambino ovviamente Cioè tutti Tranne io e te Yuri e Bing No c'è gente sana Yuri è bravo Rondo se si impegna anche lui È bravo Baggio anche Però anche Palme se si impegna A volte lì parte che è Però per esempio Super Vinci Alto Barre Alto Barre Alto Barre anche se si impegna totalmente Fa il bravo ma Super Vinci Neanche se si impegna fa il bravo Super Vinci Il fresco di zona del 2013 ragazzi Ma immagina andare in giro A vantarsi di essere del 2013 Poverino Io nel 2013 avevo la sua età Gigi È morto Rondo Io sono bravo Super Vinci Non lo so È da dicembre che sei a rischio Ban No Super Vinci Dice io sono bravo È da dicembre che è a rischio Ban ma per Ma ban È da dicembre Quindi non lo so Avrei un po' da ridire Sincero Voglio una vita nuova Ora voglio Comunque non hanno trovato nessuno Non è vero L'hanno trovato tutti L'hanno trovato Palmi Se è Rondo Rondo Palace Bobo Baggio Marte ma io lo so già Tanto Come andrà a finire Hanno trovato anche Alto Barre Voglio una vita nuova Ora voglio una Vita nuova Chissà perché siamo vivi Io Vale Marte E Super Vinci Eh chissà Ma comunque abbiamo 30 di vita Una volta ne abbiamo 100 Capirai Super Vinci Ci sono fuori dal tunnel Eh ma come mai Marte Come mai Marte Come mai Eh ma chi Ma chissà Come mai Rondo Ha voluto Va ragazzi Torniamo in lobby Rondo Non fate i seri Veramente C'è letteralmente Ragazzi Sto posto qui O neanche il creatore Della mappa Aspetta Aspetta Yuri mi bani Rondo Mi ha rotto Ah già fatto Che ho fatto Non lo so No la dico L'ha già bannato Oh quel posto lì Letteralmente Non lo conosce nessuno Cioè tu per sparare lì Ed eravate lì Non è che adesso Siete arrivati Ma comunque Se vengono Parano da solo Sì no Vengono Sì Rimasti No c'erano C'erano Eravate tutti lì davanti A noi Tutto il tempo L'hai visti no Marte dei passi Sì Sì Davanti a noi Tutto il tempo Non sentivi il ping Perché Non Magicamente Sentivi il ping Solamente lì Da no Vabbè ci sta Alla fine Cioè nel senso Che c'ha acquittato Chi è arrivato Guarda Perché Perché è proprio lui Chi Alto bar Che è che ha acquittato Ma Perché c'è una sorella rimasta Cosa vuoi To Dai veloce Prenditi quello che vuoi Che poi ti mando A zappar la vigni Siamo a ronda Super vinci Intanto che modalità Volete fare Torneo Bone Wars Squid Game Facciamo un felice Io Facciamo un bomb Facciamo un bomb Ma il d'ombro E adesso è un altro Ragazzi oggi non c'è O altrimenti Potremmo fare anche No Una Bad Wars No Non si chiama così La modalità Torneo Facciamo un torneo Andiamo di torneo Ragazzi Io devo andare Va bene Ciao Blu Più di là La cosa La Chi La chi Le tapas Non ho idea di cosa sia Cioè se me lo dici lo so Ecco se me lo dici lo so Chi è capitato Non lo sapremo mai ragazzi Ma Johnny Lama Stare Johnny Lama Per favore Ah lì io stacco Lasciano nella tomba 3, 6, 7, 8 Ma tutti 8 giocate oppure no Se ne equitano 1-2 C'è altro bar Basta Ne mettete pronto Niente ragazzi Eh pazzesco Che sta qui Ah l'autobar 3, 6, 7 Allora primo round Secondo Terzo Vabbè si può ancora fare Volendo Torneo Certo che c'è Niente Vabbè Boh io non lo so Che è Chi è Dai Chi è Ah che è stato E perché è proprio super vinci Eh ragazzi Boh io vabbè Non può Continua a fare Quello che vuole Andiamo a fare bone wars No a prescindere Non rientra più Siamo 6 Siamo 6 Dai ma se vuoi fare Così in 6 Andiamo a fare bone wars Che devo dire Siamo 7 Eh ma io nel torneo non conto Siamo 6 Io provo No aspetta Certo che certe persone Il fatto di essere Lo hanno un cuore Hai messo Io provo Ah no Ibro voglio giocare Solo le modalità Che gli piacciono Sì Ed è una roba Che non va bene Cioè nel senso Venite qui Ok Giocare Che il gioco con voi Ok Ci mancherebbe Però Un po' di Non so come dire Boh Fedeltà Un po' di Dispetto eccetera Cioè non è che venite qua E fate Come che vi pare Sincero Oh guarda che skin ha Guarda che skin ha Guarda che skin ha Per favore dai Ma pure te Cioè Ma chi è che è quella skin È bacio Ma lo fa posto Lo fa posto Dai fra metti pronto Cioè mi dispiace più che altro Perché metà di Cioè metà di voi Hanno un piede dentro Un piede fuori Cioè io A me non piace Bannarvi Cioè nel senso E tra l'altro Quelli che hanno un piede dentro Un piede fuori Sono già stati bannati In passato Non so Seconda volta Poi buona Non è che tornate Pentiti E per favore Ma vinci poi Ma in realtà è meglio Se vinci non c'è Cioè Calcola che ogni volta Che facciamo Ogni volta Che facciamo Ogni volta Che facciamo il torneo Lui dice Fa solo casini Esce dalla sbarra E corri in giro Palme stai tranquillo Cioè io dico Rega in generale Non ve la prendete Tutti Porca misera Non ve la prendete Tutti quanti Cioè se ve la prendete Avete un po' la coscienza sporca Se vi posso dire Però Cioè ce l'ho con Due Gentili Che sa Tre persone Con cui ce l'abbiamo Ce lo sa Cioè lo fanno Sempre così Un esempio Supervici Eh esatto Chissà Altro esempio Aldobar Cioè che Che giochiamo E fanno come gli pare Rega Non sono un po' rotto A me dispiace Però Bisogna anche mantenere Un certo ordine Come ho bannato Altra gente in passato Perché non rispettava Le regole Probabilmente a breve Lo faremo anche qua Cioè raga Abbiamo cercato Di non Non arrivare a sto punto Fino al massimo Ma voi volete Però per essere bannati Poi ripeto Il voi È su due Tre persone Due In realtà No No beh Dipende Però Ora non stanno In live Gli altri Però Cioè ci sta Scherzare Ci sta Fartuccio Ci mancherebbe altro Ragazzi Cioè siamo qua Anche per divertirci Anzi In primis Però Rispetto Ragazzi Cioè Rispetto Dell'ambiente Delle persone E delle regole Cioè Non è che sono regole Che dici Che palle Cioè Semplicemente Portare un po' di rispetto Non è difficile Se non vi ha insegnato Il rispetto Vedete più voti live Che ve lo spiego io Il rispetto O so palmi Stai tranquillo Non ce l'ho con te Ma anche Bomber Se si tratta Di No ma No aspetta Infatti basta Facciamo l'ultimo round Poi torneiamo in lobby Capiamo quanti siamo E vediamo Magari facciamo un torneo Saltiamo in turno round Comunque Educazione Se non ve l'hanno insegnata Ve la spieghiamo noi Non c'è bisogno Cioè Nel senso Non ci sono problemi Però si ha il po' di rispetto Tranquillamente Non mi tutti hanno pittato Dai Vabbè Torniamo in lobby Facciamo il torneo Saltiamo il primo round E basta Comunque poi Regà Entro Intero settimana Pro Ma comunque Nelle prossime settimane Il torneo subirà Modifica un po' più grande Ora Non ho avuto tempo Ma Subirà un po' di modifiche Poi Ma hai tolto I tunnel Nella zona 4 Lo Cosa vuoi Io ti Io Veramente Fai la fine La fine di ping pong Mamma mia Non è possibile Ma come fa la fine di ping pong Penso che potrebbero Vabbè Chiudi la porta e Sparati nella tempia Oh invito il gruppo da supervinci rimastissimo No Dividi i nomi Lo accetterei anche sai Entrerei proprio volentieri nella sua lobby Dai Plin Plin e Marte Dovete mettere pronto ragazzi Corro veloce Numero sette A me mi importa solo giocare Però quando mi arrabbio Parli un poco di parolacce così Che non va bene neanche quello No vabbè ci sto Dipende Ma quando mi arrabbi Parli qualcos'altro Vabbè Ale Drip ragazzi Diego non viene da sette mesi Ci scrive Ale Drip Diego Diego non a caso si è andato sto nome Diggi di Maradona Sai veramente Tiri di quelle cannonate assurde E non si parla di calcio Mi importa solo giocare Però quando mi arrabbi Sì No ma tu hai anche le cuffie Non lo senti Che delay assurdo ragazzi Un delay più grosso di questo Bellissimo Quei dracca è molto più sano Il piccolo Un saluto ragazzi Che vabbè Sì È normale Ha mettato di lei Che Hai Ho avuto 20 minuti Ma sto messaggio Adesso L'ho sentito Ma ho visto che ho scritto Però ti assi Però si Però ti andava di nuovo Di rilegge Sì Eh sì Ma leggitelo in mente In un'altra voce Infatti Ma che poi neanche a dire Lo legge vabbè Dal suo post No Viene attaccato al mio microfono Delle cuba Che è rimasto Quando puoi venire A lei aspetta Io non sono ancora entrato Dove sei? Non sono neanche ancora entrato Nella voce Mamma mia Oh regà Mettiti assente Della stella Soprattutto te Mettiti assente ragazzi Che se per qualche motivo Entra qualcuno Ragazzi Fate una fine orribile Fate la fine Più brutta a voi Che loro Nella stella Che c'è il tuo amichetto Super vinci Che c'è il bimbo Mettiti assente Ciao Joy Scendi Scendi No Tanto non lo sai fare Il primo livello Inutile Ma te Marta non ti metti assente Cioè Anche te Soprattutto Super vinci Ti metti assente o no Io Ma non ho bisogno Hai super vinci Tra gli amici Entra Ale Beh dimmi Ciro Tre Riguardo Guarda Guarda la rigoli Via Sì Corro veloce Numero sette No 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 Che arriverà per ultimo Lo scopriremo in questo episodio Perché è proprio della stella? Perché è proprio della stella da te? Che sa Brawl ha commentato sotto un video Del Forza Napoli sempre Brawl Il Brawl Stars Eh no Chi Brawl della stella Attenzione Oh Attenzione che della stella potrebbe Allora O della stella o ping pong ragazzi Ci potrebbe essere l'impresa Ma no Non c'è Buon recupero della stella Buon recupero Vai Ale Dai Dai Chi è Chi è Diego Ha cambiato nome Si chiama il genio Ho cambiato tutto Vabbè Via Ma chi è blu e rosso Ancora non ho capito Ma non lo so Pim plin Non lo so Pim plin Ma lei sono ultima È grave come cosa Lo sai vero Siti 5 Un eliminato Ma ne passano pochissimi Ma non puoi fare che passiamo tutti Un eliminato puoi fare Un eliminato Un eliminato c'è infatti Baggio entra Ok Boom Rondo eliminato Quanto volo? Non è entrato con la palla? Sì Ok L'ho visto classificato No In drastella No Non funziona così Cioè Rondo ragazzi Dopo ha fatto All'inizio Inizio stagione Un po' di trofei Dopo che nella scorsa Ha preso le botta All'ultimo da Yuri E ha perso Poi È andato via tipo tre giorni Eh vabbè Guarda che rimasti È andato via tipo tre giorni Basta Non è più arrivato in zona 4 O comunque in finale Non c'è più arrivato Rondo riprenditi per favore E guarda Mi seguono tutti Il capoblanco Sei il capoblanco Dei tuoi favori Via Ma ping pong Non c'è Ah no Eccolo Sì che c'è Sì che c'è Sono sparito No Sei rimasto Non sei sparito Ah comunque i tunnel Ne ho lasciati Ma ci sono le trappole Cosa? I tunnel Ci sono ancora Ma ci sono tutte le trappole Ma ho rimasto Ho rimasto Ho rimasto Bravo Perché Yuri Lo frusta Mi viene in mente I suoi momenti Doro Dove frustavo al fratello Ma io sono felice Cicci Rosso Rosso tu sei rimasto Diverso La nuova canzone di Maria Sofia È un po' Vabbè ragazzi Questo si è soltanto Poi sei legale tu Sì ma Boh È un qualcosa di Improponibile Oh finale Marte ping pong Oh Marte Marte Eh niente Un rimasto Si rigenera Vabbè vai vai Io regalo Perché la gioco E basta Gioco a vuoto ragazzi È finita la carriera di rondo Probabilmente Voglio credere in Gesù Ma non credo proprio Ma Yuri Robbani Per favore Ti prego Oh Yuri Però perma Cioè non perma Ma un bel po' No non perma Perma no Perma solo io Un bel po' Cinque minuti Poi quando mi arrabbio del tutto Dieci Numero sette E Unis la grinta Non credo sia Era il numero 30 Però Numero 30 Unis la grinta Ma perché hai messo le scatole? Ma posso fare quello che voglio Ma ti devo dire a te Ma ti stai zitto? Ma ti stai zitto? Eh? Ma te lo capisci che devi stare zitto? Usale le scatole Nello scorso settore Non le hanno usate Appena l'ho messo Erano dei folli Le avevano usate pure i Jamie Sembra Si nascondeva Scappava da tutti 3 No no Oh Ale Oh Ale Fa in serio Ah oh 3 2 No no Oh no Via No Non ho detto via Via Vediamo se rispettano le regole entrambi Ok Attenzione Pimponga Ha rispettato una regola Per la prima volta nella sua vita Ok Sì non so Io ho fatto una scala Mi hanno attaccato Ale e a me hanno tolto lo shield Eh lo so Ma è a tutti A tutti A tutti A tutti A tutti Curatevi Avete le cure Avete le cure Curatevi Cos'è che volete Ho fai dato curatevi Pimpong O anche te Marte Vi state curando entrambi Se uno puscia l'altro Lo kill Ale è entrato Non può essere entrato Oh no No E Gigi A 4 di vitale A 4 di vitale Che facciamo Lo killiamo Lo squalifichiamo a vita Diamo tutti i trofei del mondo A Giragab Ti prego Oh sono caduto Ma tu mi sa che uno di questi giorni schiatti Definitivamente Perché Non so Continuato si Revo Pimponga ragazzi E a 3 Ale vuoi vedere Le simone della stella Cosa devo vedere Guarda Ma dove No ecco Si ferma avanti Le porti in sabbola E non ci faceva passare Della stella Dio che fai Di 3 Se è a pari con alto bar No Che è rimasto Però è più trofe di tuo cartello È un problema Ma basta Ma Alecremone C'è i ragazzi Ti cambi nome Che non ti posso vedere Te lo giuro Mamma mia Zona 2 Ma che è da qui Allora Io non voglio sapere Chi l'ha fatto entrare Comunque Chi L'ho vinto di nulla Chi è entrato Eh Però non dove No Siamo in 8 Guarda in alto Adesso C'è scritto 8 In realtà Siamo in 7 Chi c'è Nella mappa creativa Non nel torneo Però è entrato nel mondo Creativa Super vinci Quindi vuol dire Che uno di voi Si è tolto il salta L'ha rimesso L'ha tolto per farlo entrare E poi se l'ha rimesso Così da non farsi scoprire Un fenomeno Chi saprebbe Il suo proprio rondo E chi sarà Secondo voi E perché proprio rondo O della stella Perché secondo me è un trick Che farebbe rondo Della stella Non è così Furbo da rimettere Sono anche Forse Baggio Però non credo Ma tu Yuri Lo fai veramente Sempre Dai io mi fido di Baggio Cioè non penso Di sia così Via Io non ho fatto niente Se non hai fatto nulla È della stella allora Perché di Baggio Vorrei fidarmi Di Yuri Non l'ha fatto Voi due neanche Ho imparato la lezione E meno male Baggio Imparando si impara Cioè sbagliando si impara Imparando si impara Sbagliando si impara Qualcuno non lo fa Qualcuno sbaglia e basta Nella vita Qualcuno sbaglia e basta Qualcuno è uno sbaglio Di natura Dai Marte Se ti fai eliminare Dal Simon Della stella Io Veramente No ragazzi Oh no no Oddio Stava per entrare Della stella L'avevo visto dentro Cambio nome Mi metto Jragab E Milanista 88 Va bene Ma questi non posso Sì Puoi Sì che puoi Queste qua Se salti fortissimo Sì Queste che ti tirano Non puoi saltarle No 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 Della stella no Vabbè io vado a fare Ragazzi io vado a fare Uè Uè Vabbè Ah è il mio nome Mi piace Beh bravo Palmis Via Ping pong Vieni a parlare La famiglia Eccolo Plin plin Qualifica Eccolo 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 Cioè viene eliminato Della stella Purtroppo No va che se ti impegni Lo recuperi Juri Fermati e blocca qualcuno Ok Ti prego Juri Oh Ping pong Corri Corri Ping pong Rondo eliminato Rondo mi dispiace Lo subito anch'io Sai quanto mi viene da piangere No ragazzi Che roba Juri un folle Comunque Allora Juri Bravissima persona Però è proprio un infame L'abbiamo fatto C'è Juri che Juri No ma Juri è proprio un folle C'ha sto trick Che butta fuori tutti Cioè Bagi e Juri Hanno buttato fuori Rondo E hanno fatto qualificare Plin Grazie Che roba Via Chissà se è finita L'era di Rondo Oppure Prenderà magari Solo questa stagione Di pausa Per poi d'estate Dominare Tutto e tutti Ma io d'estate Giocherò in un giorno Ma cosa vuoi Mazzarmi a lavorare Sì ma a te Voglio che Devi vincere Qualche stagione Pimpong Devi vincere qualcosa Qualche trofeo Storico Cioè c'è Trofei di te Super vinci Siamo distrutto Sì Finale della Contro sazi Simone della stella Tieni Tutto per te Rigenerati Dammelo Della stella Vai in finalista Uno Tu Plin Vieni qui Vai in finalista Due Simone della stella Droppa Chi è questa Ah no Sì te Ok Della stella Vai nell'uno Vai qui Della stella Vai qui Simone della stella Semplicemente lui Comunque sinceramente Simone della stella È il mio preferito Sì Più di Jragab Preferenza Verso Simone No Jragab Però Jragab Ragazzi ha cambiato Nome pure foto Jragab Milanista 88 Si è messo come foto Peter Griffin Jragab ti amo Te lo giuro Così va più che bene Sei perfetto Sei perfetto Così A posto Aspetta che ricarico Tre E perdo contro La stella Aspetta Vai Due Simone della stella Siccome non l'hai fatto Al finale Ti ricordo che devi Costruire il legno Via Sono partito Un po' in ritardo Vabbè Se perdi contro Della stella Devi vincere Il tipo per te Tu dovresti Tifare per Della stella Io ti puo Per della stella Infatti Oh non spararmi Quanta vita hai Scusami Ma è full Ragazzi Ma non è possibile No non era full Non era full Mi ha fatto un hit Tipo mi ha toccato 44 Scusami Precisamente 44 Scusami Vabbè ragazzi Oh Ping Sta un po' a recuperare Ora è 4 Per fortuna Piano piano Mamma mia Io te lo giuro Per parlare in live Mi sposterei anche da qua Al salone E verrei In live Però non lo fai Perché Ci sta mia madre Cavolo Se non lo farei In estate penso Che non ci sarà Quindi Probabilmente Mi sposterei in salone Vengo a parlare Vengo a parlare Poi dal 16 al Tipo 21 Di cosa? Di aprile Di aprile Parlerò Perché Eh C'è cosa Esatto Sì sì Volerà Eh ragazzi Finalmente avremo Ping pong nel prime Mio piccolo Tutti in zona No ma dov'è Marte È andato via Torna presto Non torna Che ne so È andato via E basta Ah ragazzi Tutti in zona 3 Allora Dai In zona 3 Sì Non sappiamo Direttamente Alle Sì Alle bolle Gioi ragazzi Ti adoro Super vinci È entrato di nuovo È il trofeo a Plin Ah è vero Dopo glielo do Ci ho dimenticato Quale? Ah è vero Non me l'ho messo Non te l'ho messo Via Possiamo dire Che il super vinci È entrato Sì sì Ma da un bel po' anche No no Adesso C'era scritto in chat E ora è nella tua isola attuale Ah eccolo Vabbè Ragazzi Mi sa che si beccherà Un bel bambino Vabbè dai Ti adotterò un giorno Te lo giuro Poveri Attenzione Chi si qualificherà Eh siamo già andati avanti Eh vabbè Cilla Della stella eliminato Oh prima Ti ponga Della stella finale Non so se ci stiamo capendo Della stella in finale Ah perché questo è il secondo round Eh sì Caro L'abbiamo Fatto un altro Ah Hai sbagliato Eh ma vince qua Sì lo so Vabbè Ma io Dopo la live Penso se bannarlo definitivamente Oppure no Dopo ci penso Via Di Raghab ha cambiato foto Si è messo Peter Griffin E si è cambiato il nome Con Jay Raghab Milanista 88 Ti adoro Jay Una domanda Ma Quale bug Simone entra col bug Quale bug Che c'era il muro Ha trapassato il muro Ma È stato eliminato A precedere Perché mi banni Non ti ho bannato Piccolo Jay Non te la prendere Ale quando sta Chi la live Boh Tra poco Probabilmente Perché ero time out Boh Perché ti cagate Diego Forse Finale Baggio Yuri Dai Yuri Baggio Dai DJ Yuri vai nel 1 Baggio vai nel 2 Fanti alle Milan Forza Milan Ma Marte Ma cosa ne pensi Di quello che è davanti a te È un essere primitivo Diciamo Perché stai ancora mangiando Dimmi Perché stai ancora mangiando Dimmi Spiegami il motivo Perché è buono Ah ok Vabbè ragazzi Ping pong Non so se vuoi essere bannato A vita pure tu Sto mangiando Quindi Il fetto al latte Non so se che mi prendo anche uno Ma assurdo Che bestie Vi giuro ragazzi Non è possibile Ma come fate A mangiare così tanto Siete delle bestie E sono degli stecchi Ragazzi Cioè non sono E no Che dici vabbè Ci sta Sono Dottor Bavoro E qualcun altro Messo assieme No Sono normali Cioè Giusto Fisico giusto E mangiano come Dei trattori Ragazzi Però loro Fanno parte del team Dei trattori Hanno anche il metabolismo Veloce come dei trattori Per quello Io sono un trattore Smaltiscono veloci Via Io sono un trattore Infatti faccio parte Dei trattori O delle brecce Non so Devo ancora decidere Però mi sono dei trattori 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 tutta la vita Mi sto bevendo un succo I miei chili E pesce o fruit Ma vuoi prendere Per il fondelli Chi non ha L'opportunità Di avere Dei liquidi Da ingerire Quindi non possono bere Stai sfruttando per caso Tutta Tutto il sud Italia E i dintorni Ma tu stai insultando Il sud Italia Mi sembra Io non ho detto nulla Sei tu che ti vanti Del fatto che puoi bere Quando in chat C'è un piccolo Giragab Non è vero 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 Ma l'hai detto Come vanto In chat C'è Giragab Perché soffre Di queste Piccole cose È molto sensibile Come me Giragab Che bello Io me lo immagino Come se fosse Peter Griffin Giragab Giragab Per me È Peter Griffin Che pazzo Domani non so Se ho tempo per venire Ma spero di sì Boh Diego Non vieni live Da dicembre Quindi Ma lei comunque È Io martedì Mercoledì giovedì Vado a scuola Come mai Questa cosa Eh niente Niente Perché così Poi ti dico Posso andare a picchiare Supervinci? Ah va Cirono Vai tranquillo Ah nei 5 round Stavo a chiedere Madonna Basta che Non incontri Mio per strada Veramente Siamo noi Ecco Vinci Mamma mia Ale ma stavo Stavo facendo La regalica Di V-Buck Sei creato Un account Per dirmi questa cosa Sì sicuro Stava facendo Vinci Sampolito Si chiama Ma ogni volta Che quitavi Faci della ricarica Di V-Buck Anche le altre volte Supervinci Non è solo per oggi Non è solo per oggi È da dicembre Che scarta Che rompi A dicembre Sei stato Graziato Che ho bannato Che ho bannato Alto bar Vinci Aspetta Una cosa più Una domanda Che mi piace di più Chi è che ti ha fatto entrare Eh ne Dai dimmi Beh vinci Allora Se mi dici Chi è stato A farti entrare In lobby Non ti banno Non dire che sei entrato da solo Perché non è possibile Qualcuno si è messo Si è tolto l'assente E ti ha fatto entrare Dimmi chi è stato Dove è? Io no Tu gii raga Per non puoi averlo fatto Grazie Della sincerità Ma No Una volta Mi hai detto Ti pingo Ti pingo un'arma Vieni a prenderla Yuri percola Ma non c'entra nulla È rassente Non puoi entrare Già siamo per una di Yuri Esatto Non è vero Vinci Non è vero Perché non c'entra nulla La play C'entra il gioco Di fornitor Ma guarda che purtroppo Cioè pur di non fare entrare Nei casini I suoi amici schifosi Eh ne Mamma mia Qui non è farli infame Cioè qua è Comportare È È lo stesso corrondo Ah Cioè adesso butti in mezzo Un altro Ci sta comunque Oh uno è stato Non possono averlo fatto tutti Almeno che ora Non c'è una combriccola Qua dentro Questa lobby E comunque Non siamo molti Cioè Spero Ma vanno Io lavoro la epic Di me è Marte È online Sì ma mi sono messo online poco fa Ma non è entrato a me Sì ma è anche entrato mezz'ora fa Infatti Per prima di tutto L'ho visto che ero online Ma adesso ero online Non mezz'ora Ma che poi secondo voi Faccio entrare super vici ragazzi Neanche a dire faccio entrare Jay Agab No Vince bugge Ale guarda cosa c'è Cosa devo guardare Cosa devo guardare Per vincere tu mi devi dire Chi è stato a farti entrare Se non mi dici il nome Voglio il nome E cognomi Devi dire il nome Di che Jay Agab smettila Devi dire il nome Di chi ti ha fatto entrare Sono uscito e sono rientrato Sì sei tornato al centro e si è rientrato Bello mio Così lo so fare pure io Grande super vinci E' rimasto dei rimasti Mamma mia E' un rimasto Basta Questo basta Aspetta vediamo come rientra adesso Vai alle start Vabbè metti i trofei Aspetta Chi è che ha vinto Baggio Che Con le ali di caro Di caro Di caro Di caro Vabbè ragazzi Mi mongono Analfapeta Madonna Io sono analfapeta No Yuri hai fatto bene Vai tra Facciamo l'ultimo round Dai regà Poi basta E che facciamo dopo Stacchiamo No Buddismo Tutti in zona 2 Dopo tutti in zona 4 Dai facciamo gli ultimi due Poi è buona No facciamo Altri Altri due in zona 2 E poi un altro in zona 4 Dai Allora Siamo in live da 2 ore E 25 Arriviamo a 3 ore oppure no Sì 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 Allora ragazzi Fuciliamo un cinghiale Oh ma un giorno Andiamo a caccia di facoceri Insieme Ti prego Poi facciamo allo spiedo Vabbè Lo chiamiamo Jay Raga Mister Brown Raga Via Bannalo per 3 Vanno per 3 minuti e 99 secondi Che comunque sono 4 minuti e 33 secondi Sì esatto Il bro pensa che i secondi vanno da un accento Che fenomeno Il poverino Ancora non li ha studiati Aspetta no Madonna mia Ma Fra ma Vabbè ragazzi Guarda le mie moto È tornata indietro Automaticamente Ma perché non se la sentiva Di andare avanti Io mi rifiuto di perdere Da Simone della Stella No ragazzi Sarebbe la seconda volta Non importa Basta Pi pong Barcolla ma non molla Che è successo? Ah le baventi Dai guarda Ma grazie Salti sopra lo sprint Bello mio Non lo so Cebo Lo cosa? Lo sprint Il bro Il bro Il famoso Ho detto lo sprint Cosa ho detto? Ah beh no 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 Assoluto che c'è la mente Comunque Hai la mente così Corrotta E così Bruciata Che non vogliamo dire il nome effettivo Simone della Stella Ha eliminato Ma si chiama squeak In realtà Il nome effettivo è squeak Però che No il nome effettivo Lo so io Ragazzi Blu è tornato Ma perché Cosa vuole questo? Ragazzi 99 secondi Non esistono Si arriva a 90 Di la quale si esistono Però Non si dice secondi Però vabbè Dai vai via Guarda 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 Le gambe hanno steccato Via Perché Ho già di vita Rimasto Ultimo dai Baggio Glaccia Yuri Fermati Blocca qualcuno Che devi far passare Ping pong Di nuovo Prima ha buttato fuori Ronda Ha fatto passare Ping pong Ma Yuri e Baggio Fatela collab Ma sai che Yuri È un grande Comunque Si Ok Baggio Basta è entrato Marte è uscito fuori Ping pong Ping pong E ultimo Io sono entrato Prima di Ronda Però Ping pong È uscito Marte è in caso Eh ma ping pong È ultimo Lo stesso Lo so Ma mica dico Che sono prima Mi dispiace Ping pong Ciri quasi Potevi far fuori Ronda Di nuovo Sì Ah no Della stella è uscito Numero 30 Ah Yumi E sta grinta 3 Perché tra poco Marte dirà via E tutti partiranno No Via Ragazzi È clamorosa Come cosa Ma è abbastanza inquietante No Tu te le devi andare Sei morita della stella Guardala Dov'è? Dov'è della stella? No Sei andata Non c'è Guardala Lontano Ecco Giochi tarocchi su fornite Maggiore di fornite Raga tu ti mi chiamo Vabbè via Corro Si lanciati i giuvini con me Ah lei ti piace il buscoot? Buscoot? Si che mi piace il buscoot Ma mi hanno puntato tutti Tutti mi hanno puntato Madonna Allora Perché? Ale ma tu mi stavi sparando Ti ho visto Non ti ho sparato Non ti ho sparato Ti ho visto Ti ho visto Baggio squalificato? No 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 Ale veramente Si rifà Non ti ho sparato Ale ti ho visto Ale ti ho visto Io non ti ho colpito Io non ti ho fatto un danno Non ti ho fatto un danno Avrà Oh dai Avrà a sorte Io non ti ho fatto un danno Stai continuando a sparare con le piante Dai Ale Io ho sparato alle piante Ma le piante non ti hanno toccato Altrimenti le avrei Sì invece Sono morta con le piante Non è vero Ti hai chiedato Yuri Se no la killa dava a me Le piante io le ho lanciate Dalla killa a me Non le dava a te Sì invece Oh regà in chat Confermate che sei sparata Con le piante E vi dà la killa a voi Vabbè comunque Guarda Che mi hanno fatto danno Oh Ale Anche se mi hanno fatto 5 di danno Oh guarda drive Io le ho sparate Perché non ti hanno fatto danno Perché ti stai muovendo Non ti hanno toccato Altrimenti dalla live Si vedeva il danno Perché te lo ho sparate io Lo vedo il danno Se ti faccio danno Ma tu non puoi Starti fermo con quelle mani Ma non ti ho fatto nulla comunque C'è È un'altra impressione Ragazzi Aspetta Ora facciamo Ora vediamo Il var Facciamo il var Marta ti ho one shotato Guarda il var Non c'è Non c'è un danno Ping pong Che ti squalifico a vita Lo so che mi hai chiedato tu Baggio Baggio? Cosa non Baggio Vabbè Svegliatevi tutti Via Rondo fa una finale dopo Sei mesi E vai in no build Ah no Ok build Stai trasformando In novel pony prime Ok È utile che cerchi tanto Non troverai neanche un danno Non te l'ho fatto Danno Eh beh Se no l'avrei di fatto Fra Che motivo avrei Di ucciderti Al massimo sparava Ping pong O a rondo Cioè non a te Ma ping pong Era morto Sì ma se Sparavo a lui Se dovevo fargli Del male Cioè Oh comunque Quelli che avevano più trofei Cioè i due trofei in croce Vinci torna con un altro account Ah ma posso entrare Anche d'assente Non può entrare anche d'assente È impossibile Se torni al centro e rientri Ovvio che puoi Numero 31 Slagrini E E rondo ragazzi Torna a vincere Iuri si sta un po' bloccando Ultimamente Iuri ha perso contro rondo Sì Iuri non vorrei Ti ripeto I trofei sono Cioè questi trofei sono importantissimi Molto importanti Considerando che facciamo Due live a settimana ormai Fino a fine season Quindi ogni trofeo Che facciamo in ogni live Sono stra importanti Questi trofei potrebbero Determinare La fine del torneo Allora Chi ha vinto? Roditore Allora Ronde molto indietro C'è da dire questo Che è appena arrivato a 10 Non erano neanche a 10 Ragazzi Assurdo Sei un ragazzo speciale Comunque c'è da dire che Posso dire È un fan fact Dipende Basta che non risulti nessuno No no Questa live fa schifo Vabbè Ci sta alla fine Tutto sommato ci sta È la verità o no? Bobone Cici mi inviti No no Non ti invito Non ti invito Perché adesso basta ragazzi Stacco adesso Anzi abbiamo voluto In zona 4 Poi stacco Sì appunto è quello che ha detto Ma C'ha un bottle di delay Il Plyn Non è vero Il Plyn Cleaning my shoe Simone della stella Via Non ero pronto Cavoli tuoi No non si rifà Plyn Cavoli tuoi No no Non voglio Tutti grandi Tutti grandi Tutti grandi Simone della stella Ragazzi Io ho un sogno nel cuore Simone della stella Campione del torneo Che è morto Ding Perché Mi sei sporato Sono morti tutti ragazzi Rimane della stella Lui Baggio E Marte Guarda Marte che se la prende Con i più deboli Io me la prendo con il Baggio No No te la sei presa con il più debole Sei cattivo Vergognati E la prendo con Baggio Intanto della stella C'è rimasto sotto Complimenti Che vergogna Vai Uccidi Baggio Io anche tu Uccidlo no C'ha più No ragazzi Siete tutti e due Un po' così eh Baggio è quello che ha più tropei Qui dentro eh Tra voi Ma guarda che sono entrambi guance Unita Ternale Marte Yuri Marte Io non ho le ali Quindi mi dovresti dare Perché ti rigenivi allora Eh vabbè Dai ti aspetto No raga Non farlo Oh Simone della stella Dai dammi sto Sto colto Dai Con te Con te E perché mi hai chiamato della stella Eh perché è il tuo erano Che ti posso dire Vabbè è un complimento allora Ale C'è Rondo che mi sta sponchillando Comunque è sbagliato Hai sbagliato zona Devi tra nell'altra Rondo Sì ma non mi importa Cioè non lo so Vuoi essere abbarnato a vita Più ponghi Le regole va Che valgono per ogni live Voglio vedere da vicino Ma le sto laggando un botto Alle olex lo sale Non mi fa sparare Non posso muovermi Ok Non so Salutami Gera Che ti devo dire Che lavora l'epic game Se esistono Si manete la stella Ciao come stai Ma chi? Della stella Eh sì Per quello di dire Ciao come stai Sì 3 No Ale io sono entrato in ritardo Dai oh aspetta Ti prego 2 Ale oh Fai il serio 1 Via Beh ragazzi Non lo so Fra è nelle regole Che io posso dir via Quando voglio Io ho voluto Potrei dirlo subito Ma perché Spacca tra le mie build Ragazzi Sei l'unico che builda Non lo so Cioè Beh non lo so Devo spaccare le fondamenta Levati da lì Non lo so Non lo so Buildi tu Sei te che buildi Poi continua Continua Che non builda Ma fanno build Quell'altro Cosa devo spaccarli Dimmi E builda E mi rimette le fondamenta Sto rimastissimo Ecco 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 Ora voglio vedere Si sparga di nuovo A me ragazzi C'è qualcosa che non va Tiè cadete Ale però mi fai laggare Così se mi piacerebbe Cosa vuoi da me Ma è colpa mia ragazzi Perché lagga Marte il capo Il capo Di baguglio Vabbè andiamo Tanto abbiamo finito Sta paglia Certo No no parole Tutti contro di me Tutti contro di te Dai dillo Dai di che è colpa di Geragab Che ti sparava Dalla chat della live Dai No guarda che è colpa di Draco Lui e Samir Mi stavano sparando In realtà Draco È venuto a cercare Mi a casa Mi ha trovato No no Porca mia Forza Napoli L'hai visto Ciao forza Aspetta che voglio Proprio vedere Ah no Non è Marzone Network Guarda un po' chi è Chi è Non lo fa vedere Non leggere ad alta voce Cesar il Il Bosch Ah dovrei essere a 20 No non sei a 20 Vabbè ragazzi Ci picchiamo Domani pomeriggio live Aspetta chi è Chi è Adesso te lo dico Ci picchiamo domani pomeriggio live Regà Iscrivetevi Lasciate like Domani mattina Ragazzi c'è un video top Domani mattina Se non lo guardate Non lo supportate Alla grande Veramente Ragazzi Ciao Buonanotte Buona serata Non bevete Non ubriacate Alla grande